Uno. Edno. Persone. Lizza. Io. As. As. Io e te. As e ti. As e ti. Noi due. Nii e dvamata. Lui. Toi. Toi. Lui e lei. Toi e tia. Toi e tia. Loro due. Te dvamata. Te dvamata. L'uomo. Mux. Mux. La donna. Jeana. Jeana. Il bambino. De te. De te. Una familia. Semeistro. Semeistro. La mia familia. Moje to semestro. Moje to semestro. La mia familia e qui. Moje to semestro e tuk. Moje to semestro e tuk. Io sono qui. Ase semestro. Ase semestro. Tu sei qui. Ti si tu. Ti si tu. Lui e qui. Elei e qui. Toi e tu. Tui e tu. Tia e tu. Tui e tu. E tia e tu. Noi siamo qui. Nii e smet tuk. Nii e smet tuk. Voi siete qui. Vie ste tuk. Vie ste tuk. Tutiloro sono qui. Te всicchi sa tuk. Tia e sice tuk. Book two. Due. V. V. La familia. Semestro. Semestro. Il nonno. La nonna Lui e lei Il padre La madre Maica Lui e lei Toi i tia Il figlio Sin La figlia Dășterea Lui e lei Toi i tia Il fratello Brat La sorella Sestra Lui e lei Toi i tia Lo zio Vujcio Ciccio Vujcio Ciccio 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 E Semei Ciccio Ciccio Tre. Tri. Tri. Pare la conoscenza. Zapoznanstvo. Zapoznanstvo. Ciao. Zdravej. Zdravejte. Zdravej. Zdravejte. Buongiorno. Dobar den. Dobar den. Come va? Kaksii. Viene dall'Europa. Od Evropa li ste? Viene dall'Amerika. Od Amerika li ste? Od Amerika li ste? Viene dall'Azija. Od Azija li ste? Od Azija li ste? In quale hotel a lodja? Või hotel ste odsednali? Või hotel ste ostanali? Da quanto tempo e qui? Kolko dolgo ste tuk? Kolko dolgo ste tuk? Per quanto tempo rimane? Kolko vrame ste ostanete? Kolko vrame ste ostanete? Le piace qui? Või hotel ste ostanete? Charesva li vi tuk? Charesva li vi tuk? Ejn vacanza. Vie na počivka li ste tuk? Vie na počivka li ste tuk? Mi venga a trovare. Elate mi na gosti. Elate mi na gosti. Eko il mio indirizzo. Eto adresa mi. Eto adresa mi. Ci vediamo domani? Šte se vidim li utre? Šte se vidim li utre? Mi dispiace. Odžao nim penja. Sõžaljavam. Vec je imam nešto predvid. Sõžaljavam. Vec je imam nešto predvid. Čao. 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 Arrivederci. Dovijždane. Dovijždane. A presto? Do skoro. Do skoro. Book two. Quatro. Četiri. Četiri. A scuola. V učilište. V učilište. Dove sjamo? Kade sme? Siamo a scuola. Nije sme v učilište. Nije sme v učilište. Abbiamo lezione. Imame časové. Imame časové. Questi sono gli studenti. Tova sa učilište. Tova sa učilište. Questa è l'insegnante. Tova je učitelkata. Tova je učitelkata. Questa je la klasa. Questa je la klasa. Tova je klasa. Tova je klasa. Nije učilište. Nije učim jezik. Nije učim jezik. Io studio l'inglese. Aš uča anglijski. Aš uča anglijski. Tu studi lo spagnolo. Ti učiš ispanski. Ti učiš ispanski. Lui studia il tedesko. Toj uči nemski. Noi studiamo il francese. Nije učim franski. Nije učim franski. Voi studiate l'italiano. Vije učite italianski. Vije učite italianski. Loro studiano il russo. Te učet ruski. Te učet ruski. Studiare una lingua je interessante. Da se učet ispanski je interesno. Da se učet ispanski je interesno. Vogliamo kapire la gente. Nije iskame da razbirame s horeta. Vogliamo parlare con la gente. Nije iskame da razgovarjame s horeta. Nije iskame da razgovarjame s horeta. Book 2 Cinque Pet Paesi e lingue Stranii i esici John è di Londra John è od London Londra si trova in Inghilterra London London se namiro v Velikobritania London se namiro v Velikobritania Lui parla inglese Toj govori anglijski Toj govori anglijski Maria è di Madrid Maria è od Madrid Maria è od Madrid Madrid si trova in Spania Madrid se namiro v Ispania Madrid se namiro v Ispania Lei parla spagnolo Tia govori ispanski Tia govori ispanski Peter e Marta sono di Berlino Peter e Marta sono di Berlino Peter e Marta sono di Berlino Berlino si trova in Germania Berlino se namiro v convendam Berlino se namiro v Germania Parlate tedesco voi due? Vizidvamata gavori tele i Nemzki Londra è una capitale London è storica Anche Madrid e Berlino sono capitali Madrid e Berlino sono storici Le capitali sono grandi e rumori Stolici sono grandi e rumori La Francia si trova in Europa Francia si trova in Europa Legitto si trova in Africa Egipto si trova in Africa Il Giappone si trova in Asia Japonia si trova in Asia Il Canada si trova nell'America del Nord Canada si trova in America Il Panama si trova nell'America del Sud Brazilia si trova in America Brazilia si trova in America 6 Leggere e scrivere Chetene e scrivere Io leggo Io leggo una lettera Io leggo una lettera Io leggo una parola Io leggo una lettera Io leggo una lettera Io leggo Io leggo Io leggo E scrivo una lettera Io leggo un書 Io leggo una lettera Io scrivo una lettera. Io scrivo un libro. Io scrivo. Tu scrivi. Lui scrive. Toi scrive. Book two. Sete. Sedem. Numeri. Cislata. Io conto. As broja. Uno, due, tre. Io conto finua tre. As broja do tre. Continua contare. As broja. As broja. Quatro, cinque, sei. Cetiri. Cetiri, pet, šest. Cetiri, pet, šes. Sete, otto, nove. Sedem, osem, devet. Sedem, osem, devet. Io conto. As broja. As broja. Tu conti. Ti broiš. Ti broiš. Lui conta. Toj broi. Toj broj. Uno. Il primo. Semno. Jedno. PČRVI. Jedno. PČRVI. Due. Il secondo. Dev. VTORI. DVE. VTORI. Tre. Il terzo. Tri. TRETI. TRI. TRETI. Quattro, il quarto Cetiri, cetvorti Cetiri, cetvorti Cinque, il quinto Pet, vetti Pet, vetti Sei, il sesto Cest, cesti Sette, il settimo Sedem, sedmi Otto, l'ottavo Osem, osmi Nove, il nono Devet, deveti Devet, deveti Book two Otto Osem Osem Le ore Che ora è per favore? Che ore sono per favore? Grazie mille È luna Sono le due Sono le tre Sono le quattro Sono le cinque Sono le sei Sono le sette Sono le otto Sono le nove Sono le dieci È mezzogiorno È mezzanotte È mezzanotte È dvanaiset 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 Nove Devet I giorni della settimana Dnite od sedmiczata Dnite na sedmiczata Il lunedì Ponedelnic Il martedì Vtornic Il mercoledì Sreda Il giovedì Cetvartà Il venerdì Petà Il sabato La domenica Nedèlì La settimana Sedmica Da lunedì a domenica Od ponedèlnic Do nedèlì Od ponedèlnic Do nedèlìa Il primo giorno è il lunedì Il secondo giorno è il martedì Il secondo giorno è il martedì Il secondo giorno è il giovedì Il quattò giorno è il giovedì Cetvörtìa den è cettvartà Il quinto giorno è il venerdì Cetvörtìa den è cettvartà Il sesto giorno è il sabato. Il sestimo giorno è la domenica. Il sestimo giorno è la domenica. Il sestimo giorno è la domenica. La settimana ha sette giorni. Il sestimo giorno è la domenica. Noi lavoriamo solo cinque giorni. Nie lavoriamo solo 5 giorni. Nie lavoriamo solo 5 giorni. Book 2 Dieci Deset Deset Ieri, oggi, domani Včera, dnes, utre Včera, dnes, utre Včera, biaf, na kino. Včera, biaf, na kino. Il film era interessante. Filmat, bese, interesan. Filmat, bese, interesan. Oggi è domenica. Oggi non lavoro. Oggi non lavoro. Dnes ne lavoria. Dnes ne lavoria. Resto a casa. Dnes, domani è lunedì. Dnes, domani, lavoro di nuovo. Ponedelnic, a's, otnovo, работia. Văv ponedelnic, a's, otnovo, работia. Lavoro in ufficio. A's, robotia, v'oficio. A's, robotia, v'oficio. Či e? Coi e tu va? Coi e tu va? E Peter. Tova e Peter. Tva e Peter. Peter e uno studente. Peter e student. Peter e student. Questa chi è? Coi e tu va? Coi e tu va? Questa è Marta. Tva e Marta. Tva e Marta. Marta è una segretaria. Marta e secretarca. Marta e secretarca. Peter e Marta sono amici. Peter e Marta s-a priateli. Peter e Marta s-a priateli. Peter e l'amico di Marta. Peter e priatelet na Marta. Peter e priatelet na Marta. Marta è l'amica di Peter. Marta è priatelcata na Peter. Marta è priatelcata na Peter. visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 Undici Edinaiset Edinaiset Mesi Mesecite Mesecite Gennaio Januari Januari Febbraio Februari 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 Marzo Mart 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 Aprile Apriu Apriu Maggio Mai 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 Giugno Giugno Juni 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 Questi sono sei mesi Tova sa šest meseca Tova sa šest meseca Tova sa šest meseca Gennaio Febbraio Marzo Januari Februari Mart Januari Januari Februari Februari Aprile Maggio E giugno Apriu Mai I Juni Apriu Setembro Avgust September Septemvri September September dil Anche questi sono sei mesi. Luglio, agosto, settembre. Luglio, agosto, settembre. Ottobre, novembre, dicembre. Occombre, novembre e dicembre. Occombre, novembre e dicembre. Luglio, agosto, settembre. Occombre, novembre, dicembre. Occombre, novembre, dicembre. As, pia, ciai. Io bevo caffè. As, pia, caffè. Io bevo acqua minerale. As, pia, mineralna voda. As, pia, mineralna voda. Bevi il te con il limone? Pièš li chai s limon? Bevi il caffè con lo zucchero? Pièš li caffè s zahar? Bevi acqua con ghiaccio? Pièš li voda sas let? Qui c'è una festa. Tuk ima parti. La gente beve prosecco. La gente beve vino e birra. Hora ta pijet vino e birra. Bevi alkolici? Pièš li alkohol? Pièš li alkohol? Bevi whisky? Pièš li whisky? Pièš li whisky? Bevi Coca-Cola con il rum? Pièš li cola s rum? Pièš li cola s rum? Non mi piace il prosecco. As ne običam šampansko. As ne običam šampansko. Non mi piace il vino. As ne običam vino. As ne običam vino. Non mi piace la birra. As ne običam bira. As ne običam bira. Al bambino piace il latte. Bebe to običa mlako. Bebe to običa mlako. Al bambino piacono la ciocolata e il suco di mela. Dete to običa kakao i jabalko v sok. Dete to običa kakao i jabalko v sok. A la donna piacono la spremuta da rancha e il suco al pompelmo. Dete to običa portokalov sok i sok od grapefruit. Dete to običa portokalov sok i sok od grapefruit. Book 2 Tredici Trinayset Trinayset Accivit DAYwritten 데jnosti Dejnosti Kje kosa fa Marta? Kjo pravi Marta? Kako pravi Marta? Lavora in ufficio Tia ha roboti v'office Lavora al computer Tia ha roboti na computer Dov'è Marta? Cad'è Marta? Al cinema Na kino Guarda un film Tia gleda film Che cosa fa Peter? Cakvo pravi Peter? Studia all'università Tòi sledva v'università Studia lingue Tòi uchi esici Dov'è Peter? Cade è Peter? Cade è Peter? Al bar Cafeneto Bebe un cafe Tòi pie cafe Dov'è gli piace andare? Dov'è non vanno volentieri? Dov'è non vanno volentieri? Cade non vanno volentieri? Cade ne vanno volentieri? Sì? Cade non vanno volentieri? Cade non vanno volentieri? Te ne obiciat da tancivano. Book 2 Quattordici 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 Colori Cvetovete Cvetovete La neve è bianca. Snegat è bianca. Snegat è bianca. Il sole è giallo. Suncetto è giolto. L'arancia è arancione. Portugallat è oranjev. Portugallat è oranjev. La ciliegia è rossa. Ceresciata è cervena. Ceresciata è cervena. Il cielo è azzurro. Nebeto è sinio. L'erba è verde. Trevata è zelena. Trevata è zelena. La terra è marrone. Prosta è caffiava. Prosta è caffiava. La nuvola è grigia. Oblacat è sif. Oblacat è sif. Le ruote sono nere. Avtomobilnite gumi sà cerni. Avtomobilnite gumi sà cerni. Di che colore è la neve? Bianca. Cercat è sif. Bial. Cercat è sif. Bial. Di che colore è il sole? Giallo. Cercat è sif. Cercat è sif. Giallo. Cercat è sif. Di che colore è l'arancia? Arancione. Cercat è portugao. Orangif. Cercat è portugao. Orangif. Di che colore è la cilieggia? Cercat è rossa. Cercat è cererata? Cercat è cercat. Cercat è cercat. Cercat è cercat. Di che colore è il cielo? Azzurro. Cercat è neve? Cercat è neve. Cercat è neve? Cercat è cercat. Di che colore è l'erba? Verde Di che colore è la terra? Di che colore è la nuvola? Di che colore sono le ruote? Di che colore sono le ruote? Di che colore sono le ruote? Fruiti e generi alimentari? Di che colore sono le ruote? Di che colore sono le ruote? Io ho un kiwi e un melone? Io ho un arancio e un pompelmo? Di che colore sono le ruote? 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 Io mangio un tost. Io mangio un tost con il burro. Io mangio un tost con il burro e marmellata. Io mangio un tramezzio. Io mangio un tramezzino con la margarina. Io mangio un tramezzino con margarina e pomodoro. Io mangio un tramezzino con margarina e pomodoro. Abbiamo bisogno di pane e riso. Abbiamo bisogno di pesce e bistecche. Abbiamo bisogno di pesce e spagetti. Di che cosa abbiamo ancora bisogno? Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. Dove troviamo un supermercato? Cad'è il supermercato? Cad'è il supermercato? Cad'è il supermercato? L'estate L'autunno e l'inverno D'estate fa caldo L'estate fa caldo C'è il sole Pres'l'atoto sl'nceto grie Pres'l'atoto sl'nceto grie D'estate ci piace andare a passeggio Pres'l'atoto n'ie s'udovolstvie se razhoshdame Pres'l'atoto n'ie s'udovolstvie se razhoshdame D'inverno fa freddo Zimata è studena Zimata è studena D'inverno ne vica opiove Pres'l'ato v'ali sniak ili dèžd Pres'l'ato v'ali sniak ili dèžd D'inverno preferiamo restare i nakaza Pres'l'ato v'ali s'udovolstvie se razhoshdame Pres'l'ato obicame da stoim v këšti Pres'l'ato obicame da stoim v këšti Fa freddo Studeno è Studeno è Piove V'ali dèžd V'ali dèžd Tira vento Duh'a v'iatr Duh'a v'iatr Fa caldo Topuo è C'è il sole Sloncevo è È sereno Jasno è Che tempo fa oggi? Какvo è vremeto dnes? C'è il sole è Oggi fa freddo Dnes è studeno Dnes è studeno Oggi fa caldo Dnes è topo Dnes è topo Book 2 Dnes è sette Sedemnaiset Sedemnaiset A casa V'këšti V'këšti Ecco la nostra casa Tuk è nashita këšta Tuk è nashita këšta Sopra c'è il tetto Gore è pokrivat Gore è pokrivat Sotto c'è la cantina Dolo è maseto Dietro la casa c'è un giardino Davanti a la casa non c'è nessuna strada Pred këštata n'amà uliça Pred këštata n'amà uliça Vicino la casa c'è sono degli alberi Do këštata n'amà uliça Do këštata n'amà uliça Do këštata n'amà uliça Do këštata n'amà uliça Ecco il mio apartamento Ecco la cucina e il baño Tuk s'a kuhnjata i banjata Lì ci sono il salotto E la camera da letto Tam s'a всekidnevnata i spalnjata Tam s'a всekidnevnata i spalnjata La porta e c'uza Vhodnata vrata e zatvorena Vhodnata vrata e zatvorena Male finestre sono aperte No prozorcite s'a otvoreni No prozorcite s'a otvoreni Oggi fa caldo Dnes e gorещo Noi andiamo in salotto N'ie vlizame vъv всekidnevnata N'ie vlizame vъv всekidnevnata Lì ci sono un divano e un'apoltrona Tam ima divan i futjojo Creslo Tam ima divan e futeu, cresuo. Si sieda. Sednete. Sednete. Lì c'è il mio computer. Tam è mojot computer. Tam è mojot computer. Lì c'è il mio stereo. Lì c'è il mio impianto stereo. Tam è mojota stereo uredba. Tam è mojota stereo uredba. Il televisore è nuovo di dzeka. Televizoret è sàvsem nov. Televizoret è sàvsem nov. Diciotto. Osemnaiset. Osemnaiset. Polizie di casa. Pocciztvane na kushitata. Pocciztvane na kushitata. Oggi è sabato. Dnes è sabato. Dnes è sabato. Oggi abbiamo tempo. Dnes n'è imamè vreme. Dnes n'è imamè vreme. Io pulisco il bagno. As cistia bagnata. As cistia bagnata. Mio marito pulisce la macchina. Mio marito. Mio marito pulisce la macchina. Mio marito pulisce la macchina. I bambini puliscono le biciclette. Decatà чистiat velocipedite. Colelata. Decatà чистiat velocipedite. Colelata. La nonna annafia i fiori. Babà puliva cvetiata. Babà puliva cvetiata. I bambini mettono in ordine la loro stanza. Decatà raztrebvat detscata stagia. Decatà raztrebvat detscata stagia. Mio marito mette in ordine la sua scrivata. Mio marito mette in ordine la bianqueria. Mio marito metto la bianqueria nella lavatrice. As slagam prane to peralniata. As slagam prane to peralniata. Stendo il bucato. As prostitam prane to. As prostitam prane to. Styro la bianqueria. As gladia prane to. As gladia prane to. Le finestre sono sporche. Il pavimento è sporco. Podat è mrasin. Podat è mrasin. Le stoviglie sono sporche. Sadovete sà mrasni. Sadovete sà mrasni. Chi pulisce le finestre? Chi pulisce le finestre? Chi chiudi prosortite? Chi spolvera? Chi passa la spirapolvere? Chi chiudi spraho smukacchkata? Chi si chiama il fraccio il muazzino? Chi chiama il piatti? Chi mi è il sudore? 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 Book 2 Dicano 9 19 19 In cucina In cucina In cucina Hai una nuova cucina? J zwanger cuore? Nulla cuore? Che questa cucina le ordine? Come ce vuoi cucina rio gi? Ce vuoi cucino? La cucina è elettrica o a gas Na elettrica pechica li gottviš ili na gas Talio le cipolle Da nareggi li luka Pelio le patate Da obeliali kartofite Lavo linsalata Da izmiali salatata Dove sono i bicchieri? Cade sà cašite? Dove sono le stoviglie? Cade sà sà dovete? Cade sà sà dovete? Dove sono le pozate? Cade sà priborite? Cade sà priborite? Ai una prescatale? Imaš li otvoracca za konservi? Imaš li otvoracca za konservi? Ai una prescatale? Imaš li otvoracca za botilki? Imaš li otvoracca za botilki? Ai un cavatapi? Imaš li tirbushon? Imaš li tirbushon? Fai bollir la zupe in quella pentola? Tazi tangerà li ste gotvish supata? Văv tazi tangerà li ste gotvish supata? Cuocil pesce in quella padella? Tazi tangerà li ste păržiš ribata? Văv tazi tangerà li ste păržiš ribata? Cuocil a verdura su quella grillia? Na tazi tangerà li ste păržiš zelenčuțite? Na tazi tangerà li ste păržiš zelenčuțite? Io preparo la tavola. Azi slagam masata. Azi slagam masata. Eko i colteli, le forcete e i kukiai. Eko i bicchieri, i piati e i tavaljoli. Tava sa čașite, činiite i saofetkite. Tava sa čașite, činiite i saofetkite. Book 2 20 20 20 Small talk Chakere Uno Kratăc разговор Jedno Sia komodi Nastanete se udobno Nastanete se udobno Fac sa, cum e a casa sua Čustvajte se kato u doma si Čustvajte se kato u doma si Che cosa desidera da bere? Le piace la muzica? Obicete-li muzica? Mi piace la muzica clasica Az haresvam clasica muzica Az haresvam clasica muzica Az haresvam clasica muzica Eko i miei chi di Tova sa moite kompakt diskove Suona uno strumento? Svirite-li na neșto? Svirite-li na neșto? Ecco la mia chitarra Tova e moeta chitarra Tova e moeta chitarra Le piace cantare Obicete-li da peete? Obicete-li da peete? A figli? Imate-li deca? Imate-li deca? A un cane? Imate-li cuce? Imate-li cuce? A un gato? A un gato? Imate-li cotca? Imate-li cotca? Eko i miei libri Tova sa moite kniigi Tova sa moite kniigi Sto legendo questo libro Tuck mu četa tazi kniiga Tuck mu četa tazi kniiga Che cosa le piace leggere? Kakvo ubicete-li da citete? Kakvo ubicete-li da citete? Va volentieri al concerto? Obicete-li da chodite na concerto? Obicete-li da chodite na concerto? Va volentieri a teatro? Obicete-li da chodite na teatro? Va volentieri all'opera? Obicete-li da chodite na opera? Obicete-li da chodite na opera? visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi Book 2 21 21 21 Small talk, kia kere due Kratak разговор, 2 Kratak разговор, 2 Da dove viene lei? Di dove? Od kade ste? Od kade ste? Da bazilea, di bazilea Od bazel Od bazel Bazilea si trova in svicera Bazel se namira v Švajcariya Bazel se namira v Švajcariya Le posso presentare il signor Müller? Može li da vi predstave il signor Müller? Lui è straniero. Toi è giudinec. Parla diverse lingue. Toi parla diversa lingue. Lui è qui parla prima volta? Za prèv pèt li ste tuk? No, ci sono già stato l'anno scorso. Ne, minalata godina biav vè c'è t'uk. Ne, minalata godina biav vè c'è t'uk. Ma solo per una settimana. No, samo za jedna sedmica. No, samo za jedna sedmica. Come si trova da noi? Choresve li vi pri nas? Choresve li vi pri nas? Molto bene. La gente è gentile. Mnogo. Horata sà prijatni. Mnogo. Horata sà prijatni. Ed anche il pezaggio mi piace. E m'asnostà mi haresva. E m'asnostà mi haresva. Qual è la sua professione? Cacav ste po profesia? Cacva ste po profesia? Sono traduttore. Azzam prevodac. Azzam prevodacca. Traduco libri. Azz preveżdem книgi. Azz preveżdem книgi. E solo, sola, qui? Sam li ste tuk? Sam ali ste tuk? No, c'è anche mia moglie, mio marito. Ne, mojata žena също e tuk. Ne, mojata mësh също e tuk. E quelli sono i mie due figli. A tam sà dvete mi deca. A tam sà dvete mi deca. Book two. Ventidue. Dvajset i dve. Dvajset i dve. Small talk. Chiaciere. Tre. Kratak razgovor. Tre. Kratak razgovor. Tre. Lei fuma? Pusite li? Pusite li? Una volta fumavo. Po rano da. Po rano da. Ma adesso non fumo piu. No, sega veče ne puša. No, sega veče ne puša. La disturbo se fumo? Preči li vi ako as puša? Preči li vi ako as puša? No, a fatu. Ne. Ne, veopšte ne. Ne, veopšte ne. Non mi disturba. Tova ne mi preči. Tova ne mi preči. Beve qualkosa. Šte pijeti li nešto? Šte pijeti li nešto? Un konjak. Edin konjak? Edin konjak? No, piutosto una birra. Ne, predpocitam birra. Ne, predpocitam birra. Lei viadža molto? Pătuvate li mnogo? Pătuvate li mnogo? Si, di solito sono viadži di afari. Da, obiknoveno v komandirovka. Da, obiknoveno v komandirovka. Ma adesso siamo in vacanza. No, sega sme tuk na pochivka. No, sega sme tuk na pochivka. Che a fa? Kakva zgega? Kakva zgega? Si, oggi fa veramente kaldo. Da, dnes naistina je goreșto. Da, dnes naistina je goreșto. Andiamo fuori sul balcone. Da izlezem na balcone. Da izlezem na balcone. Domani c'e una festa. Utre tuk știe ima parti. Utre tuk știe ima parti. Ci viene anche lei? Știe dojdete li i vije? Știe dojdete li i vije? Si, anche noi siamo invitati. Da, nije saschto sme pokanini. Da, nije saschto sme pokanini. Book 2 23 23 23 23 Studiare le lingue straniere Dove ha imparato lo spagnolo? Cade ste ucili ispanski? Cade ste ucili ispanski? Sa anche il portugese? Možete li da govorite i portugalski? Možete li da govorite i portugalski? Si, e so anche un po' di italiano. Da, govoria i malco italianski. Da, govoria i malco italianski. Trovo che lo parla molto bene. Mislia, che govorite molto bene. Mislia, che govorite molto bene. Le lingue sono piuttosto simili. Ezi, cate si sono piuttosto simili. Ezi, cate si sono piuttosto simili. Ezi, cate si sono piuttosto simili. Riesco capirle bene. Ase mogo da ghi razbiram dobre. Ase mogo da ghi razbiram dobre. Ma parlari e scrivere è difficile. Ma parlare e pisare sono difficili. Faccio ancora molti errori. Per favore, mi correga sempre. La sua pronuncia è molto buona. Proiznozione vi è molto bene. Lei ha un leggero accento. Si può capire da dove viene. Qual è la sua madre lingua? 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 In questo momento non ricordo come si chiama. Non mi viene mentale titolo. Lo dimenticato. Zabravio. 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 Book 2. 24. 24. 24. Appuntamento. Ugovorca. Ugovorca. Avremo. Hai perso l'autobus? Ovvolvolvol? Avvolvolvolvolvol? Avvolvolvolvolvolvol? Avvolvolvolvolvolvol! Avvolvolvolvolvolvolvol? Avvolvolvolvolvolvol? Ti ho aspettato per mezzo ora. N'abbagare un telefono con voi? La prossima volta si puntuale. Il prossimo passo è bello chiaro. Il prossimo passo è bello chiaro. Il prossimo passo prendi un taxi. Il prossimo passo è bello taxi. Il prossimo passo è bello taxi. La prossima volta prendi un ombrello. Il prossimo passo è bello chiudere con voi. Il prossimo passo è bello chiudere con voi. Domani sono libero. Otre sono libero. Otre sono libero. Ci vediamo domani? Da se srechne otre. Da se srechne otre. Mi dispiace. Domani non posso. Săžaliam. Otre ne stava. Săžaliam. Otre ne stava. Hai già programmi per questo fine settimana? Otre ne stava. Otre ne stava. Otre ne stava. Otre ne stava. facciamo una picnica da napravim picnik andiamo in a spiaggia da otidem na plazza andiamo in a montagna da otidem v planinata ti passo a prendere in ufficio ti passo a prendere a casa ti passo a prendere alla fermata dell'autobus ti passo a prendere in ufficio 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 bich iscala da otida na letište to vorrei andare in centro bich iscala da otida v centra na grada qual è la strada per la stazione qual è la strada per l'aeroporto qual è la strada per il centro qual è la strada per il centro mi serve una piantina della città mi serve una piantina della città ti passo a prendere in ufficio vorrei no leggiare una macchina bich iscala da naema colà eccola mia carta di credito e'co la mia carta di credito e'co creditnata mi carta e'co la mia patente Eto la mia carica. Cosa c'è da vedere in città? Cosa può vedere in grado? Cosa può vedere in grado? Vada nel centro storico. Eto a l'uptare in grado. Faccia un giro della città. Napravete obikolka na grada. Vada al porto. Idete na prestaniște. Faccia un giro al porto. Napravete obikolka na prestaniște. Quali atracioni turisti che ci sono ancora? Kakvi drugi zabeležitelnosti ima? Kakvi drugi zabeležitelnosti ima? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 26 26 Nella natura Sredo la natura Sredo la natura Vedi quella villagio li? Vedi quella villagio li? Victor das puente li? Vedi quella la taste lì. Vedi che la monta lì? Vedi quella l'aule li. Questo uccello qui mi piace. Ptycchkata è tam mi piace. Ptycchkata è tam mi piace. Quest'albero qui mi piace. Dervo tu è tam mi piace. Questa pietra qui mi piace. Scalata tu c'è mi piace. Scalata tu c'è mi piace. Questo parco qui mi piace. Parcat è tam mi piace. Questo giardino qui mi piace. Gradynatta è tam mi piace. Gradynatta è tam mi piace. Questo fiore qui mi piace. Cveteto tu c'è mi piace. Cveteto tu c'è mi piace. Lo trovo carino. Sporad men to'va è chubavo. Sporad men to'va è chubavo. Lo trovo interessante. Sporad men to'va è interesno. Sporad men to'va è interesno. Lo trovo meraviglioso. Sporad men to'va è prekrasno. Sporad men to'va è prekrasno. Lo trovo brutto. Sporad men to'va è grosno. Sporad men to'va è grosno. Lo trovo noioso. Sporad men to'va è scubavo. Sporad men to'va è scubavo. Lo trovo orribile. Sporad men to'va è uržasno. Sporad men to'va è uržasno. Sporad men to'va è chubavo. A una camera libera. Imate li svobodna staja? Imate li svobodna staja? O prenotato una camera. A's zapazih staja. A's zapazih staja. Mi chiamo Müller. Imeto mi è Müller. Imeto mi è Müller. O bisogno di una camera singola. Trabvami edinichna staja. Trabvami edinichna staja. O bisogno di una camera doppia. Trabvami dvojna staja. Quanto costa la camera a notte? Kolko struva stajata za jedna noc? Kolko struva stajata za jedna noc? Vorrei una camera con banjo. Bih zelal staja s banjo. Bih zelala staja s banjo. Vorrei una camera con doccia. Bih zelal staja s duš. Bih zelala staja s duš. Posso vedere la camera? Mose li da vidia stajata? Mose li da vidia stajata? C'è un garaj qui? Ima li tuk garaj? Ima li tuk garaj? C'è una casa forte qui? Ima li tuk sejf? Ima li tuk sejf? C'è un fax qui? Ima li tuk fax? Ima li tuk fax? Bene, prendo la camera. Dobre, šte vzema stajata. Dobre, šte vzema stajata. Ecco le kiavi. Eto ключovete. Eto ключovete. Ecco i miei bagagli. Towa e bagajat mi. Towa e bagajat mi. A che ora c'è la colazione? V kolko časa e zakuskata? V kolko časa e zakuskata? A che ora c'è il pranzo? V kolko časa e obiadat? V kolko časa e obiadat? A che ora c'è la cena? V kolko časa e vecherata? V kolko časa e vecherata? Book 2 Book 2 Ventotto Dvajset i osem Dvajset i osem In hotel Lamentele Hotela Oplakvane La doccia non funziona Dvajset ne raboti Dvajset ne raboti Non c'è acqua calda Toplata Toplata voda Toplata voda Ne t'če Toplata voda Ne t'če Po farla riparare? Mogete li da odstranite Povredata? Mogete li da odstranite Povredata? Nella stanza Non c'è il telefono Stajata n'hama telefon Vov stajata n'hama telefon Nella stanza Non c'è il televisore V stajata n'hama televizor Vov stajata n'hama televizor La stanza Non ha la terrazza Stajata n'hama balcon Stajata n'hama balcon Nella camera c'è troppo rumore Stajata e tvrde šumna Stajata e tvrde šumna La camera e troppo piccola Stajata e tvrde malka Stajata e tvrde malka Il riscaldamento non funziona Parno to ne raboti Parno to ne raboti L'aria condizionata L'aria condizionata non funziona Klimaticat ne raboti Klimaticat ne raboti Il televisore è guasto Televizorat e povreden Televizorat e povreden Questa non mi piace Tava ne mi haresva Questa è troppo cara Tvrde scapo è za men Tvrde scapo è za men Avete qualcos'a di più economico? Imate li nešto po-eftino? Imate li nešto po-eftino? C'è uno stello della gioventù qui vicino? Imate li tuk nablizu muadeška turisticesca spavnia? C'è una pensione qui vicino? Imate li tuk nablizu pansion? Imate li tuk nablizu pansion? C'è un ristorante qui vicino? Imate li tuk nablizu ristorant? Imate li tuk nablizu ristorant? Book 2 29 29 29 Al ristorante uno E' libero questo tavolo? Masata è svobodna li è? Masata è svobodna li è? Vorrei il menù per favore C'è cosa mi poracomandare? C'è cosa mi poracomandare? C'è cosa mi poracomandare? Vorrei una birra Bich iscala edna birra Vorrei una minerale Bich iscala edna mineralna voda Vorrei una ranciata Bich iscala edin portokalov sok Vorrei un kafe Bich iscala edno kafe Vorrei un kafe macchiato Bich iscala edno kafe s mlaco Bich iscala edno kafe s mlaco Kolo cukero per favore S zahar molia S zahar molia Vorrei un te Bich iscala edin çay Bich iscala edin çay Vorrei un te a limone Bich iscala edin çay s limon Bich iscala edin çay s limon Vorrei un te con latte Bich iscala edin çay s mlaco Bich iscala edin çay s mlaco A de le sigarette Imate li cigarete Imate li cigare Imate li cigare Imate li cigare A umporta cenere Imate li pepelnik Imate li pepelnik Imate li pepelnik A da cenere Mi manca una furketa Niamam vilica Mi manca un coltello Niamam noş Mi manca un kukiaio Niamam vilica Niamam vilica Book two Trenta Triset Triset Al restorante Due V restoranta Dve Un suco di mela Per favore Edin yabolkov sok molia Edin yabolkov sok molia Una limonata Per favore Edna limonada molia Edna limonada molia Un suco di pomodoro Per favore Edin domaten sok molia Edin domaten sok molia Edin domaten sok molia Vorrei una bicchiere di vino rosso Bih iskal čaşa červeno vino Bih iskala čaşa červeno vino Vorrei una bicchiere di vino bianco Bih iskala čaşa biavo vino Bih iskala čaşa biavo vino Vorrei una botiglia di spumante Bih iskala Bih iskala botiglia di spumante Bih iskala Ti piace il peše Običeš li riba? Bi češ li riba? Ti piace il manzo? Običeš li goveždo meso? Običeš li goveždo meso? Ti piace la carne di maiale? Obiccash li svinisco meso? Vorrei qualcosa senza carne. Bih iscala nello senza meso. Vorrei un piatto di verdura. Bih iscala nello, che si pregozzi bambino. Vorrei un piatto di verdura. Bih iscala nello, che si pregozzi bambino. Lo vuole con il riso? Lo vuole con la pasta. Lo vuole con le patate. Bih iscala nello, che si pregozzi bambino. Questo non mi piace. Tava ne è vcusno. Il cibo è freddo. Questo non l'ho ordinato io. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Bih iscala nello, che si pregozzi bambino. Bih iscala nello, che si pregozzi bambino. è proprio 3�app MSCIhali. Vorrei un'antipasto. Bih isca un'antipasto. Bih iscala un'antipasto. Bih iscala un'asnotale. Vorrei un'insalata. Big iscala un'esatto. Vorrei una minestra Vorrei un dessert Vorrei un gelato con panna Vorrei della fruta o del formaggio Vorrei fare colazione Vogliamo pranzare Vogliamo cenare E iscame da vecheriamo E iscame da vecheriamo Che cosa volete colazione? E iscriviti E iscriviti E iscriviti Un uovo sodo Svareno jajce Svareno jajce Un uovo all'occhio di bue Jajce nauci Una frittata Omlet Omlet Ancora uno iogurt, per favore Molia Oste uno Kiselo mleco Molia Oste uno Kiselo mleco Molia Ancora sale e pepe, per favore Molia Oste sol E ceren Piper Molia Oste sol E ceren Piper Ancora un bicchiere d'acqua, per favore Molia Molia Oste una cassa Voda Molia Oste una cassa Voda Book 2 32 32 32 32 Al restaurante Quattro V Restoranta 4 V Restoranta 4 Una porzione di patatine con ketchup Edna porcia pъrženi kartofi s ketchup Edna porcia pъrženi kartofi s ketchup E due porcioni con majoneze E dve porciji s majoneza E dve porciji s majoneza E tre porcioni di salsiccia con senape E tre porciji pečeni nadinički s gorčica E tre porciji pečeni nadinički s gorčica Que verdure avete? Kaj verdure avete? Kakvi zelenčuci imate? Kakvi zelenčuci imate? Avete fadjoli? Imate li zelen bop? Avete cavolfiore? Imate li cvetno zele? Mi piace molto il maiz. As obiccham carevica. As obiccham carevica. Mi piacciono molto i cetrioli. As obiccham krastavici. Mi piacciono molto i pomodori. As obiccham domati. Piace anche a lei il porro. Piacciono anche a lei i crauti. Piacciono anche a lei le lenticchie. Piacciono anche a te le carote. Piacciono anche a te i broccoli. Piacciono anche a te i peperoni. Piacciono anche a te i peperoni. Non mi piacciono le olive As ne ubicam maslini As ne ubicam maslini Non mi piacciono i funghi As ne ubicam ggbi As ne ubicam ggbi Book 2 33 33 In stazione Na gara Quando parte il prossimo treno per Berlino? Cogat trăgva sledvași et vlac za Berlino? Cogat trăgva sledvași et vlac za Berlino? Quando parte il prossimo treno per Parigi? Cogat trăgva sledvași et vlac za Parigi? Cogat trăgva sledvași et vlac za Berlino? Cogat trăgva sledvași et vlac za Berlino? Acela parte il treno per Warsavia? Cogat trăgva sledva? Cogat trăgva sledva sledva șervec das. Vlacat să VAR 我是 inavis A che ora parte il treno per Budapest? Volico che sa tracca vlacca per Budapest? Volei un biletto per Madrida. Bich iscala un biletto per Madrida. Volei un biletto per Praga. Bich iscala un biletto per Praga. Vorrei un biletto per Berna. Bich iscala un biletto per Berna. A che ora arriva il treno a Viena? A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva il treno a Amsterdame? A che ora arriva il treno a Viena in Amsterdam? A che ora arriva il treno a Viena in Amsterdam? A che ora arriva il treno a Viena a Viena in Viena? A che ora arriva il treno a Viena in Viena? A che ora arriva il treno a Viena in 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 Viena. A che ora arriva il treno a Viena in 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 Tava li è vlacat za Berlino? Cogà tracva vlacat? Cogà prestigia vlacat v Berlino? Scusi, mi fa passare. Izvinete, može li da mina? Credo che questo sia il mio posto. Mislia che tova è mo'etto miasto. Credo che lei sia seduta al mio posto. Mislia che sedite a mo'etto miasto. Dove è il vagoneletto? Cade è spavniat vagon? Cade è spavniat vagon? Il vagoneletto è in a coda al treno. Spavniat vagon è in a coda al treno. Spavniat vagon è in a coda al treno. E dove è il vagoneletto è in a coda al treno? Cade è in a coda al treno? A dove è il vagoneletto è in a coda al treno? Cade è in a coda al treno. Posso dormire al centro? Cade è in a coda al treno? Cade è in a coda al treno? Posso dormire sopra? Cade è in a coda al treno? 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 Si può avere qualcosa da mangiare e da bere Tuk, može li da se kupi nello za iadene e piene? Bih te li me sabudili v 7 часa, molia? Book 2 35 35 All'aeroporto Vorrei prenotare un volo per Atene. Bih iscala da rezerviram polet do Atene. Bih iscala da rezerviram polet do Atene. È un volo diretto? Poletat direkten li è? Poletat direkten li è? Per favore, un posto vicino al finestrino, non fumatori. Molia, edno miasso do prozoreca, non fumatori. Molia, edno miasso do prozoreca, non fumatori. Vorrei confermare la mia prenotazione. Bih iscala da potvordia rezervaciata si. Bih iscala da potvordia rezervaciata si. Vorrei annullare la mia prenotazione. Bih iscala da odcaža rezervaciata si. Vorrei cambiare la mia prenotazione. Bih iscala da promenia rezervaciata si. Bih iscala da promenia rezervaciata si. Quando parte il prossimo aereo per Roma? Cogà izlita sledvaștiat samolet za Rim? Cogà izlita sledvaștiat samolet za Rim? Ci sono ancora due posti liberi. Ima li oще две свободni места? Ima li oще две свободni места? No, abbiamo solo un posto libero. No, abbiamo solo un posto libero ozzi. Quando aterriamo? Cogà će kacnem? Quando arriviamo? Cogà će smetam? Quando parte l'autobus per il centro? Cogà ima autobus za centra na grada? Cogà ima autobus za centra na grada? È sua questa valigia? Tu va vašiat kufr li? Tu va vašiat kufr li? È sua questa borsa? Tu va vašiat a chanta li? Tu va vašiat a chanta li? Cogà ima autobus per il centro? È sua questo bagaglio? Tu va vašiat bagaglio li è? Tu va vašiat bagaglio li è? Quanto bagaglio posso portare? Qualcuno bagaglio posso portare? Quanto bagaglio posso portare? Venti kili 20 kg Come solo venti kili? Vizita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi Book 2 36 36 36 36 Trasporti pubblici Gradski transport Gradski transport Dov'è la fermata dell'autobus? Cade je autobusnata spirka? Cade je autobusnata spirka? Quale autobus va in centro? Coy autobus otiva v centara? Coy autobus otiva v centara? Ke linea devoprendere? Coy autobus trebba da vzema? Coy autobus trebba da vzema? Coy autobus trebba da vzema? Dove devo cambiare? Quanto costa un biletto? Quante fermate ci sono fino in centro? Quanto fermate ci sono fino in centro? Deve schendere qui? Deve schendere qui? Deve schendere dietro? Deve schendere dietro? Deve schendere dietro? La prossima metropolitana arriva fra 5 minuti La prossima metropolitana arriva fra 10 minuti Il prossimo autobus passa fra 15 minuti La prossima metropolitana arriva fra 15 minuti La prossima metropolitana arriva fra 15 minuti Quando parte l'ultimo autobus? La prossima metropolitana arriva fra 15 minuti La prossima metropolitana arriva fra 15 minuti Il biletto? No, non ce l'ho Biletto? Ne, niamam Biletto? Ne, niamam Allora deve pagare la multa Togava Togava treba da platite globa Togava treba da platite globa Book 2 37 In viaggio Na pët Lui va in motocicletta Toi pătua s motor Lui va in bicicletta Toi pătua s велosiped Toi pătua s kolelo Toi pătua s велosiped Kolelo Lui va piedi Toi vărvi pèș Toi vărvi pèș Lui va kolanave Toi pătua s korab Toi pătua s korab Lui va in barca Toi pătua s lodca Toi pătua s lodca Lui nuota Toi pluva Toi pluva E pericoloso qui Opasno li e tuk Opasno li e tuk E pericoloso pasajar Da soli di notte Opasno li e da se razhoshdaș Noștem sam? Opasno li e da se razhoshdaș Noștem sam? Ci siamo persi Nii obrcahme pătia Nii obrcahme pătia Abiamo zbalia to strada Nii sme na pogrешen păt Nii sme na pogrешen păt Dobiamo tornare indietro Nii trăbva da se vărnem Nii trăbva da se vărnem Dove possiamo parcheggiare? Căde može da se parkira tuk? Că un parcheggio? Tuk ima-li parking? Per quanto tempo si poă lașare la machina parcheggiata? Kolko vremă можe da se parkira tuk? Kolko vremă можe da se parkira tuk? Leishia Karate li ski? Karate li ski? Să le colo ski-liftă Să s-ski-liftă li știe se cačite? Să s-ski-liftă li știe se cačite? Să s-si posă non-leģari, deliși? Mose li da se vzemăt tuk-ski? Mose li da se zăemăt tuk-ski? Book 2 Mi chiami un taxi, per favore? Molia, izvikajte taksi Molia, izvikajte taksi Quanto costa fino a la stazione? Kolko struva do garata? Kolko struva do garata? Quanto costa fino al aeroporto? Sempre dirito, prego Molia, napravo Qui giri destra, per favore Molia, tuk nadiasno Molia, tuk nadiasno Al angolo, giri a sinistra, per favore Molia, tam na îgăla, na liavo Molia, tam na îgăla, na liavo Ofretta Bărzam 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 O tempo Imam vreme Imam vreme Vada piu piano, per favore Karajte po bavno, molia Karajte po bavno, molia Si fermi qui, per favore Sprete tuk, molia Sprete tuk, molia Aspeti un momento, per favore Izcacajte един moment, molia Izcacajte един moment, molia Returno subito Vednaga se vrăștam Vednaga se vrăștam Mi dia la ricevuta, per favore Molia, dăjte mi quitanția Molia, dăjte mi quitanția Non ho spiccioli Niamam drebni pări Niamam drebni pări Va bene così Il resto e per lei Mi porti a questo indirizzo Zakarajte me na tozi adres Mi porti al mio albergo Zakarajte me do moia hotel Mi porti a la spiaggia Zakarajte me na plaja Zakarajte me na plaja Book 2 39 39 Guasto a la macchina Avtomobilna avarija Dove e il prossimo distribuțore di benzina? Căde e naj-bliscata benzinostanția? Căde e naj-bliscata benzinostanția? O bucato Imam spukana guma Imam spukana guma Po cambiar la ruota Măžete li da smenite koleloto? Măžete li da smenete koleloto? Mi o corrono alcuni litr di gazoria O finito la benzina Niamam povece benzin Niamam povece benzin Aumidone di rezerva Imate li rezervna tuba? Imate li rezervna tuba? Dove posta telefonare Căde mogă da se obadia po telefon? Căde mogă da se obadia po telefon? O bizonio din oto socorso Trăbvă mi păt na pomoșt Trăbvă mi păt na pomoșt Cărcone oficina Trăsia работilnica Trăsia работilnica Trăsia работilnica Căstat un incidente Sluci se zlopouca Sluci se zlopouca Dove el telefono piu vicino? Căde e najbliskiat telefon? Căde e najbliskiat telefon? Căde e najbliskiat telefon? A un celulare Imată li mobilen telefon săs sebe si? Imată li mobilen telefon săs sebe si? Căcore aiuto Trăbvă ni pomoșt Trăbvă ni pomoșt Cămi un medico Izvicajte lecăr Izvicajte lecăr Chami la policia Izvicajte policia Izvicajte policia Izvicajte policia Il libretto di circulazione, per favore Dokumentite na automobila, molia Dokumentite na automobila, molia Buk 2 40 40 40 40 40 Cădere indicaționi Cădere indicaționi Osvedomiavane za pătia Osvedomiavane na pătia Mi scuzi Izvicajte 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 Mi po ajutare Măžete li da mi pomognete? Măžete li da mi pomognete? Că un buon ristorante da queste parti Cădă ima tuc dobăr răstărânt? Cădă ima tuc dobăr răstărânt? Cădă ima tuc dobăr răstărânt? Poi segua diritto per un po'. Dopo cento metri, giri a destra. Poi anche prendere il tramvia, il tram. Poi segua diritto in macchina. Poi segua diritto in macchina. Come arrivo allo stadio? Come arrivo allo stadio? Atraversi il ponte. Presetete mosta. Passi il tunel. Poi segua fino al terzo semaforo. Poi segua fino al terzo semaforo. Poi segua fino al terzo semaforo. Poi al prossimo incrocio continui diritto. Poi segua fino al terzo semaforo. Scusi, come arrivo all'aeroporto? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Põtuvajte prosto do poslednata spirka. Põtuvajte prosto do poslednata spirka. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 41 41 Orientamento Orientirane Dove si trova l'ente per il turismo? Cad'è turisticeskoto biuro? Cad'è turisticeskoto biuro? Ha una pianta della città per me? Imate li carta na grada? Imate li carta na grada? Si po prenotarana camera qui? Mose li da se rezervira tuk hotelska staja? Mose li da se rezervira tuk hotelska staja? Dove il centroistorico? Cade è stariat grad? Cade è stariat grad? Dove il duomo? Cade è katedrauta? Cade è katedrauta? Dove il muzeo? Cade è 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 muzeo? Dove si posso no comprare dei franco bolli? Cade è muzeo? Cade si posso no comprare dei biletti? dove il porto, dove il mercato, dove il mercato, dove il castello, dove il mercato, quando comincia la visita guidata, quando finisce la visita guidata, quando finisce la visita guidata? quanto dura la visita guidata? quanto dura la visita guidata? vorrei una guida che parli tedesco vorrei una guida che parli italiano vorrei una guida che parli francese vorrei una guida che parli francese vorrei una guida che parli francese book 2 42 42 vizita della città è aperto il mercato la domenica il mercato il mercato il mercato il mercato il mercato È aperto il museo il giovedì. È aperta la galleria il venerdì. È aperto il museo? È aperto il museo? È aperto il museo? Si deve pagare l'ingresso? C'è uno sconto per gruppi? C'è uno sconto per bambini? C'è uno sconto per studenti? Di che edificio si tratta? Quando è stato costruito questo edificio? Chi l'ha costruito? Mi interesso di architettura. Mi interesso di arte. Mi interesso di pittura. Mi interesso di arte. Mi interesso di arte. ? Sì. Porto. Sì. Quaranta tre. Sì. Sì. Quaranta tre. Sì. 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 Allo zoo. Lì c'è lo zoo. Lì ci sono le girafe. Dove sono gli orsi? Dove sono gli elefanti? Dove sono i serpenti? Dove sono i leoni? Dove sono i leoni? Io ho una macchina fotografica. Io ho anche una telecamera. Dove trovo una batteria? Dove sono i pinguini? Dove sono i canguri? Dove sono i rinoceronti? Dove sono i servizi? Dove sono i servizi? Dove sono i servizi? Lì c'è un ristorante. Tam ima ristorant. Tam ima ristorant. Dove sono i cammelli? Dove sono i tigri e i coccodrilli? Dove sono i tigri e i coccodrilli? Dove sono i tigri e i coccodrilli? dove sono i labi? Ushire la sera. Vecerna razhotca. C'è una discoteka qui vicino? Ima li tuk discoteka? C'è un locale notturno qui vicino? Ima li tuk nošten klub? C'è una taverna qui vicino? Ima li tuk cracma? Cosa c'è stasera a teatro? C'è un locale notturno qui vicino? C'è un locale notturno qui vicino? Cosa c'è stasera a la cinéma? C'è un locale notturno qui vicino? Cosa c'è stasera a la televisione? Cosa c'è un locale notturno qui vicino? Cosa c'è ben- C'è ancora biletti per la partita? C'è ancora biletti per la partita? C'è ancora biletti per la partita? Voglio sedermi proprio in fondo. Voglio sedermi in un posto al centro. C'è ancora biletti per la partita? Voglio sedermi in prima fila. C'è ancora biletti per la partita? C'è ancora biletti per la partita? C'è cosa mi può consigliare? C'è ancora biletti per la partita? 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 Il film è appena uscito. Film è davvero nuovo. Dove è la casa? C'è la casa? C'è sono ancora posti liberi. Quanto costano i biletti? Quando cominciamo il spettacolo? C'è la presentazione? Quanto dura il film è? Colco vremi produrza il film è? Colco vremi produrza il film è? C'è posso non riservare dei biletti? 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 Io vorrei sedermi al centro. C'è posso non riservare dei biletti? C'è posso non riservare dei biletti? Il film è stato emociionante. C'è stato emozionante. C'è stata emozionante. C'è stata emozionante. Are film è comprensione? C'è stato emozionante. Filtrat non era theus e..." C'è stata emozionante. Ma il libro su cui si basa il film era meglio. No, книgata cam' filmat' bese po' добra. Com'era la colonna sonora? Cac' bese muzikata? Com'erano gli attori? C'erano i sottotitoli in inglese? Imașeli subtitli na anglijski ezik? Imașeli subtitli na anglijski ezik? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 Quaranta sei Quaranta sei Cetiriset i šest Cetiriset i šest In discoteka Diskotekata E libero questo posto? Miastoto Svobodno li è? Miastoto Svobodno li è? Posso sedermi A canto a voi? Mose li da sedna Volentieri S'udovolstvie S'udovolstvie Li piace questa muzika? Cac' namirate muzikata? Cac' namirate muzikata? E un po troppo forte Malco silna Ma il complesso suona bene No gruppata sviri Mnogo dobre No gruppata sviri Mnogo dobre Viene spesso qui Cesto li idvate tuk? Cesto li idvate tuk? No E la prima volta Non ci ero mai stato Non ci ero mai stato Nikoga ne sem bila tuk Balla Tancivate li? Tancivate li? Forse più tardi Po-cassno Može bi Po-cassno Može bi Non so ballare molto bene Ase ne moga da tancivam Dobre Ase ne moga da tancivam Dobre E molto semplice Săvsem Săvsem Prosto e Săvsem Prosto e Je lo faccio vedere Je lo insegno io Ște vi Pokaja No Forse un altra volta Ne Po-dobre Po-dobre Niakoi Niakoi Druk Păt Ne Po-dobre Niakoi Druk Păt Sta aspettando Qualcuno? Čakate li Niakogo? Čakate li Niakogo? Si Ilamio Amico Da Moia priate Da Moia priate Eccolo Che viene Eto go Idva Eto go Idva Book two Quarantasette 47 47 Preparativi Del Viagio Podgovka Za pătuvane Podgovka Za pătuvane De vi preparare le nostre valide Trăbva da stegnăș bagaja Trăbva da stegnem Non devi Dimenticare nulla Niente Vnimavai Da ne Zabravish Neșto Vnimavai Da ne Zabravish Neșto Hai Bisogno Di una Grande Valide Trăbva Ti Goliam Kufar Trăbva Ti Goliam Kufar Non Dimenticare Il Pasaporto Ne Zabravaj Pasaporta Ne Zabravaj Pasaporta Non Dimenticare Il Biljetto Ne Zabravaj Samoletnia Biljet Ne Zabravaj Samoletnia Biljet Non Dimenticare L'asenji Turistici Ne Zabravaj Pătniceskite Čekove Ne Zabravaj Pătniceskite Čekove Portatil La crema Solare Vzemi Krem Protiv Svănce Vzemi Krem Protiv Svănce Portatil L'ocjalida Sole Vzemi Svănčevite Ociva Portatil Capelo Peril Sole Vzemi Svănčevata Shapka Vzemi Svănčevata Shapka Voi portarti na kartina stradale Iscaš li da Vzemesh pëtna karta Iscaš li da vzemesh pëtna karta Voi portatil na guida Iscaš li da vzemesh pëtna voditel Iscaš li da vzemesh pëtna voditel Voi portatil n'ombrello Iscaš li da vzemesh chadar Iscaš li da vzemesh chadar Non dimenticari pantaloni le camiche e i calcini Ne zabravaj pantalonite rizite čorapite Ne zabravaj pantalonite rizite čorapite Non dimenticare le kravate le cinture e le djacke Ne zabravaj vratovrskite kolanite sakata Ne zabravaj vratovrskite kolanite sakata Non dimenticare i pijami le camiche danotte e le maliette Ne zabravaj pijamite nošnicite i tenis kite Ne zabravaj pijamite nošnicite i tenis kite zabravaj zabravaj di scarpe, sandali e stivali. Trabvati obuvchi, sandali e botusi. Hai bisogno di faccioletti di carta sapone e del tala unge. Trabvati nosni karpicchi, sapun e nozica. Trabvati nosni karpicchi, sapun e nozica. Hai bisogno di un petine uno spazzorino e del dentifricio. Trabvati greben, четca za zăbi e pasta za zăbi. Trabvati greben, четca za zăbi e pasta za zăbi. 48 48 48 48 Ativita in vacanza Zanimania pres отпускata Zanimania pres отпускata E pulita la spiaggia. Plagat čist li e? Plagat čist li e? Si po fare il baño? Može li da se căpim tam? Može li da se căpim tam? Non e pericoloso fare il baño li? Căpane to tam ne e li opasno? Căpane to tam ne e li opasno? Si puă noleggiare un ombrellone? Može li da se naeme plajen cedăr? Može li da se zaeme plajen cedăr? Si puă noleggiare un asdraio? Može li da se naeme șezuong? Može li da se zaeme șezuong? Si puă noleggiare una barca? Može li da se naeme șezuong? Može li da se zaeme șezuong? Mi piacerebbe fare windsurf. Bih iscăl da caram surf. Bih iscăla da caram surf. Mi piacerebbe fare imersione sub aquea. Bih iscăl da se gmurcăm. Bih iscăla da se gmurcăm. Mi piacerebbe fare de lo și nautico. Bih iscăl da caram surf. Bih iscăla da caram surf. Si puă noleggiare un windsurf? Može li da se naeme șezuong? Može li da se naeme șezuong? Si puă noleggiare un atrețătura per sommoțători? Može li da se naeme șezuong și funcători? Si possono knowledgeare degli sci d'acqua. Mose li da se naemat водni ski? Sono ancora principiante. Azzam начинаește. Sono di livello medio. Sredno-dobr sono. Mela cavo. Tava mi è poznato vece. Dove lasci ovia? Cade eschi liftat? Aiportato gli sci. Imaš li sci? Hai portato gli scarponi da sci. Imaš li sci obuvki? Imaš li sci obuvki? Book 2 49 49 49 49 49 Sport Fai dello sport Zanimavash li se ss sport? Si, devo fare del movimento Da, aze treba da se движa Vado in una società sportiva Chodia v'edin sporten club Chodia v'edin sporten club Jochiamo a calcio Nie igraim futbol Nie igraim futbol Qualche volta nuotiamo Poniacoga pluvamme Poniacoga pluvamme Oppure andiamo in bicicletta Nella nostra città c'è uno stadio Nassia grad ima futbolen stadion C'è anche una piscina con la sauna Ima sucho basen Să sauna Ima sucho basen Să sauna E c'è un campo da golf Ima i golf igriște Ima i golf igriște Cosa c'è in televizione Căcvo ima po televiziata Căcvo ima po televiziata Căcvo ima po televiziata Căcvo ima po televiziata Căcno dando una partita di pallone Căcmo davat futbolen mač Căcmo davat futbolen mač La squadra tedesca sta giocando Contro quella inglese Nemskiat odbor Igrae sreștu angliskiat Nemskiat odbor Igrae sreștu angliskiat Căcvince 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 Niamam Predstava Niamam Predstava Al momento sono pari Momenta Resultatat E Ravien Văv Momenta Resultatat E Ravien L'arbitro Viene Dal Beldjo Sădiyata E Od Bălgia Sădiyata E Od Bălgia Adesso Căcă un rigore Săgă Biat Duzpa Săgă Biat Duzpa Gol Uno a zero Gol Edin Na nua Gol Edin Na nua Buk 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 Cinquanta Pedeset Pedeset In piscina Basăina Vă Vă Băsăina Oġi Fă Caldo Dnes E Gorășto Dnes E Gorășto Andiamo in Piscina Da Da Oțidem Na Băsăin Da Oțidem Na Băsăin A I Volia Di Andare Anu Otare Iscaș Li Da Oțidem Da Pluvame Iscaș Li Da Oțidem Da Pluvame Ai Un Așugamano Imăș Li Havlija Imăș Li Havlija Ai Un Costume Da Banjo Da Uomo Imăș Li Banski Gașteta Imăș Li Banski Gașteta Ai Un Costume Da Banjo Da Donna Imăș Li Banski Costum Imăș Li Banski Costum Săi Nuotare Moșeș Li Da Pluvăș Moșeș Li Da Pluvăș Săi Andare Sot Aquă Moșeș Li Da Se Gmurkăș Moșeș Li Da Se Gmurkăș Săi Tu Fartii In Aquă Moșeș Li Da Skačeș Vă Vodata Moșeș Li Da Skačeș Vă Vodata Dove La Ducă Căde E Duşat Căde E Duşat Dove Lo Spoglia Toio Căde E Să Blegalni Dove Să Gmurkăș Căde Să Ocilată Ză Pluvăne Căde Să Ocilată Ză Pluvăne E Fonda L'acqua Vodata Dălboka L'ie Vodata Dălboka L'ie E Pulita L'acqua Vodata Cistă L'ie Vodata Cistă L'ie E Calda L'acqua Vodata Topua L'ie Vodata Topua L'ie O Freddo Studenum L'acqua E Troppo Fredda Vodata E Dosta Studena Vodata E Dosta Studena Io Ora Esco Dall'acqua Să Să Izlizam Od Vodata Să Izlizam Od Vodata Visita il sito www.book2.d www.b.b.c. OOK2.d Per il libro E per i testi Book 2 51 51 51 51 51 51 Fare spese Pocupki Pocupki Volio andare in biblioteca Iscam da otida v bibliotecata Iscam da otida v bibliotecata Volio andare in libreria Iscam da otida v knižarnicata Iscam da otida v knižarnicata Iscam da otida v mestnikarskia paviljon Iscam da otida v mestnikarskia paviljon Voglio prendere un libro. 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 52. 52. 52. 52. Centro Commerciale Magazina Andiamo in un Centro Commerciale? Che otidem li v'magazina? Devo fare spese Trebava da napravia n'akolko покупki Trebava da napazaria n'akolko покупki Voglio fare molti acquisti Iscam da napazaruvam mnogo nešta Dove sono gli articoli da ufficio? Cade sa cancelarskite izdelia? Cade sa cancelarskite izdelia? Ho bisogno di buste e carta da lettere Ho bisogno di penne e penarelli Ho bisogno di penne e penarelli Dove sono i mobili? Cade sa mebelite? Ho bisogno di un armadio e di un como Cade sa i giocattoli? Cade sa i giocattoli? Ho bisogno di una bambola e un orsaciotto Cade sa i giocattoli? Cade sa i giocattoli che Ati sa i giocattoli di un'abora e un'abora e di scattoli? Cade sa i giocattoli? dove sono gli attrezzi dove sono gli utensili ho bisogno di un martello e di pinze ho bisogno di un tracano e di un cazzavite dove sono gli utensili ho bisogno di una collana e di un braccialetto ho bisogno di un anello e di orecchini ho bisogno di un braccialetto 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 Cerco una gioielleria. As tarsia bijuter. Cerco un fotografo. As tarsia fotomagazin. As tarsia fotomagazin. Cerco una pasticceria. As tarsia svatkarnița. Infatti ho intenzione di comprare un anello. Vsășnost iscăm da kupia prăsten. Infatti ho intenzione di comprare un rulino. Vsășnost iscăm da kupia lenta. Infatti ho intenzione di comprare una torta. Vsășnost iscăm da kupia torta. Vsășnost iscăm da kupia torta. Cerco una gioielleria per comprare un anello. As tarsia bijuter. Za da kupia prăsten. As tarsia bijuter. Za da kupia prăsten. Cerco un fotografo per comprare un rulino. As tarsia fotomagazin. Za da kupia lenta. As tarsia fotomagazin. Za da kupia lenta. Cerco una pasticceria per comprare una torta. As tarsia svatkarnița. Za da kupia torta. As tarsia svatkarnița. Za da kupia torta. Book two. Cinquantaquattro. Pedeset i cetiri. Pedeset i cetiri. Fare spese. Pazaruvane. Pazaruvane. Vorrei comprare un regalo. Bih iscăl da kupia подарăc. Bih iscălă da kupia подарăc. Ma niente di troppo caro. No ne neșto prekaleno scăpo. No ne neșto prekaleno scăpo. Forse una borsetta. Može bi damsca chanta. Može bi damsca chanta. Di che colore. Kakăv cviat želaete? Kakăv cviat želaete? Nera, marone o bianca. Čeren, kafiaf ili biau. Čeren, kafiaf ili biau. Una grande o una piccola? Goljama ili malca. Goljama ili malca. Posso vedere un po' questa? Može li da vidia tazi? Može li da vidia tazi? E di pelle? Od koža li e? Od koža li e? O e di materiale sintetico? Ili od iskustvena materija. Ili od iskustvena materija. Di pelle, naturalmente. Od koža estestveno. Od koža estestveno. Questa e di ottima qualita. E la borseta e veramente a un buon prezzo. Chantata, deistitelo, e na mnogo izgodna cena. Chantata, deistitelo, e na mnogo izgodna cena. Questa mi piace. Charesvami. Charesvami. La prendo. Šte ja vzema. Šte ja vzema. Posso cambiarla eventualmente? Može li eventualno da ja podmenja? Može li eventualno da ja podmenja? Naturalmente. Razbira se. Razbira se. Facciamo un pacco regalo. Nije šte ja opakovame kato подарak. Nije šte ja opakovame kato подарak. La casa e da quella parte. Casata e tam od srešta. Casata e tam od srešta. Book 2 55 55 55 Lavorare. Lavorare. Rabota. Che lavoro fa? Kakav ste po profesija? Kakva ste po profesija? Mio marito e medico. Mio marito. Mio marito mi je lekar po profesija. Mio marito mi je lekar po profesija. Lavoro come infermiera part-time. Aš rabotja na polovin den kato medicinska sestra. Aš rabotja polovin den kato medicinska sestra. Presto andremo in pensione. Skoro šte povucavame pensija. Skoro šte povucavame pensija. Ma le tasse sono alte. A danacite sa visoki. A danacite sa visoki. E l'assicurazione contro le malattie è costosa. Izdravna ta osigurovka è visoka. Izdravna ta osigurovka è visoka. Koza vorresti fare? Kakav iscaš da stanesh? Kakva iscaš da stanesh? Io vorrei diventare ingeniere. Bih iscaš da stana ingeniere. Bih iscala da stana ingeniere. Io voglio studiare all'università. Iscam da sledvam v univerziteta. Iscam da sledvam v univerziteta. Io sono praticante. As sem praticant. As sem praticant. Non guadagno molto. As ne pechelia mnogo. As ne pechelia mnogo. Faccio un tirocinio all'estero. As sem na pratica v čusbina. As sem na pratica v čusbina. Questo è il mio capo. Tava è mojat šef. Tava è mojat šef. Ode i colleghi gentili, simpatici. Azi imam prijatni kolegi. Azi imam prijatni kolegi. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. A mezzogiorno andiamo. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. Sono disoccupato da un anno ormai Vecche una godina sono bezrabotin In questo paese ci sono troppi disoccupati Tasi strana ima molti bezrabotni In questa strana ima molti bezrabotni www.book2.d 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 per il libro e per i testi Book 2 Cinquanta sei Petdeset i šest Petdeset i šest Sentimenti Chufstva Aver volja di Imam želanje Imam nastroenje Imam želanje Nastroenje Abbiamo volja Nije imame želanje Nije imame nastroenje Nije imame želanje Nastroenje Non abbiamo volja Nije imame nastroenje Nije imame želanje Nastroenje Aver paura Aver tempo Aver tempo Imam vremi Imam vremi Imam vremi Imam vremi Lui ha tempo Toi ima vremi Toi ima vremi Lui non ha tempo Toj ima vremi Toj ima vremi Toj ima vremi Annojarsi Scučaja Lei si annoja Tia scučaje Tia scučaje Aver fami Gladen sam Gladna sam Avete fami Gladni li ste Gladni li ste Non avete fami Ne ste li gladni Ne ste li gladni Aver sete Gladen sem Gladna sem Loro annosete Te sa žadni Te sa žadni Loro non annosete Te ne sa žadni Te ne sa žadni Book two Cinquanta sette Pedeset i sedem Pedeset i sedem Dal dottore Pri lecaria Pri lecaria Ho un apuntamento dal dottore As imam čas pri lecaria Ho l'apuntamento alle dieci Imam čas za deset Imam čas za deset Come si chiama? Kak se kazvate? Kak se kazvate? Per cortesija Sia komodi nella sala Da tesa Molia Sednete V čakalniata Molia Sednete V čakalniata Il dottore Arriba subito Lekariet Šte dojde vednaga Lekariet Šte dojde vednaga Che asicuracione Kde ste zastrahovan? Kde ste zastrahovan? Kako za po sofare Berlej? Kakvo moga da napravia za vas? Kakvo moga da napravia za vas? Prova dei dolori Imate li bolki? Imate li bolki? Dove le fa male? Kde vi boli? Kde vi boli? O sempre dolori a la skiena Maldi skiena Postojanno me boli grbët Postojanno me boli grbët Ho spesso mal di testa Često imam guavobolje Često imam guavobolje Qualche volta ho mal di pancia Po njakoga me boli coremat Njakoga me boli coremat Per favore si metta a torso nudo Sublecete se do krasta Molia Sublecete se do krasta Molia Sizdrai su letino per cortesia Legnete na kushetkata Molia Legnete na kushetkata Molia La presione e aposto Krvno to naljaganje e normalno Krvno to naljaganje e normalno Le faccio un'injezione Šte vi napravia injekcija Šte vi napravia injekcija Le prescrivo delle medicine Šte vi dam tabletki Šte vi dam tabletki Šte vi dam tabletki Le prescrivo una rečetta per la farmacia Šte vi napiša recepta Šte vi napiša recepta Book two Cinquantotto Pedeset i osem Pedeset i osem Parti del corpo Častite na tiavoto Častite na tiavoto Io disegno un uomo Az risuvam čovjek Az risuvam čovjek Prima la testa Põrvo главata Põrvo главata L'uomo indossa un capello Čovekat nosi šapka Non si vedono i kapelli Kosata mu ne se vijda Kosata mu ne se vijda Non si vedono neanke leorekje Ušite mu ne se vijdat I ošite mu ne se vijdat Non si vede neanke la skiena Gõrbat mu също ne se vijda Gõrbat mu също ne se vijda Io disegno gli oki E la bocca Risuvam Očite Očite I ustata Risuvam Očite I ustata L'uomo Balla E ride Čovekat Tancua I se smee Čovekat Tancua I se smee L'uomo Ail naso lungo Čovekat Ima Dõlg Nos Čovekat Ima Dõlg Nos Lui A in mano Un bastone Tõi Nosi Prъčka Vracete Si Tõi Nosi Prъčka Vracete Si Lui Indossa Anke Una Sharpa Intorno Alkollo Nosi Išao Okolo Vrata Si Nosi Išao Okolo Vrata Si E Inverno E Fa Freddo Zima E I E Studeno Zima E I Studeno Le Braccia Sono Robuste Pratsetemu Sassioni Pratsetemu Sassioni Anke Le Gambe Sono Robuste I Krakatamu Sassi 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 L'uomo E Fatto Di Neve Sassi 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 Non indosa Ne pantaloni Ne capotto Ne soprabito Toj Ne 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 Nosi Pantalon I Pantalon E Palto Ma L'uomo Non ha Freddo No Ne Mu Estudeno No Nemo Estudeno E Un Pupaco Di Nieve Toj E Snежin Čovek Toj E Snежin Čovek Book 2 59 59 59 59 Alle poste Poštata V Poštata Dove je la posta? La posta più vicina Kade je naj-bliskata poštinska služba? Kade je naj-bliskata poštinska služba? E lontana la posta Dalek li je naj-bliskata poštinska služba? Dalek li je do naj-bliskata poštinska služba? Dove je la prossima buka delle lettere? Kade je naj-bliskata poštinska služba? Kade je naj-bliskata poštinska služba? Mio corono alcuni francobolli Kade je naj-bliskata poštinska služba? Kade je naj-bliskata poštinska služba? Kade je naj-bliskata služba? Peruna cartolina ed una lettera? Za jedna kartička i jedno pismo. Za jedna kartička i jedno pismo. Kanto costa un francobollo per l'Amerika? Kolko je poštinska služba do Amerika? Kolko je poštinskata služba do Amerika? Kanto pesa questo pacco? Kolko tежi coletat? Kolko tежi coletat? Posso spedirlo per posta aerea? Moga li da go izpratia s văzdušna pošta? Moga li da go izpratia s văzdušna pošta? Kanto cimete ad arrivare? Za kolko vreme ще pristigne? Za kolko vreme ще pristigne? Dove poso telefonare? Kade moga da se obadia po telefon? Kade moga da se obadia po telefon? Dove je la prossima cabina telefonica? Kade je najblizcata telefonna cabina? Kade je najblizcata telefonna cabina? Ha carte telefoniche? Imate-li fonokarti? Ima telefonokarti? Ha un elenco telefonico? Imate-li telefonen ukazatel? Imate-li telefonen ukazatel? Sa il prefisso per l'Austria? Znaete-li telefonen ukazatel? Znaete-li telefonen ukazatel ză-Austria? Un momento che guardo. Moment. Ștě provărâ. Moment. Ștě provărâ. La linia je sempre ocupată. Telefonnata linia postojanu e zaeta. Telefonnata linia postojanu e vzeta. Che numero ha fatto? Koi nomer izbrahte? Koi nomer izbrahte? Deve fare prima lo zero. Părvo trebvă da izberete noua. Părvo trebvă da izberete noua. Book two. Sessanta. Šeyset. Šeyset. In banca. Bankata. Văf bankata. Vorrei aprire un conto. Bih iskal da si otvoria smetka. Bih iskala da si otvoria smetka. Ecco il mio pasaporto. Eto pasporta mi. Eto pasporta mi. Ed ecco il mio indirizzo. Towa e adresat mi. Towa e adresat mi. Vorrei fare un avversamento sul mio conto. Bih iskal da vnesa pari po smetkata si. Bih iskala da vnesa pari po smetkata si. Vorrei fare un prelievo dal mio conto. Bih iskala da vzema izvleceniata od smetkata. Bih iskala da vzema izvleceniata od smetkata. Vorrei incasare un assegno. Vorrei incasare un travel check. Bih iskala da osrebria edin putniceski check. Bih iskala da osrebria edin putniceski check. Quante la tarifa? Kakvi sa taksite? Kakvi sa taksite? Dove devo firmare? Cade da se podpisa? Sto aspettando un bonifico dalla Germania. Ocakvam prevod od Germania. Ocakvam prevod od Germania. Ecco il mio numero di conto. Tava je nomera na smetkata mi. Tava je nomera na smetkata mi. Sono arrivati i soldi? Parite prestignaha li? Parite prestignaha li? Vorrei cambiare questi soldi. Bih iskal da obmenya tezi pari. Bih iskala da obmenya tezi pari. Mi okorono dollari usa. Träbvat mi štatski dollari. Träbvat mi štatski dollari. Per favore, mi dia banconote di piccolo talio. Molja, dajte mi dräbni banconote. Molja, dajte mi dräbni banconote. C'è un bancomat qui? Tuk ima li bancomat? Tuk ima li bancomat? Quale summa si può prelevare? Какva summa можe da se tegli? Какva summa можe da se tegli? Quali carte di credito si accetano? Koja kreditna karta можe da se ispolzva? Koja kreditna karta можe da se ispolzva? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 61 61 61 Numari ordinari Cislitevni redni Il primo mese e gennaio Põrviat mesec e januari Põrviat mesec e januari Il secondo mese e febraio Vtoriat mesec e februari Vtoriat mesec e februari Il terzo mese e marzo Tretijat mesec e mart Tretijat mesec e mart Il quarto mese e mart Il quarto mese e aprile Cetvertijat mesec e apriu Cetvertijat mesec e apriu Il quinto mese e maggio Petijat mesec e mai Petijat mesec e mai Il sesto mese e junio Cetvertijat mesec e juni Cetvertijat mesec e juni Gennaio, febbraio, marzo Januari, februari, mart Aprile, maggio e giugno Apriu, mai, iuni Il settimo mese è luglio Sedmiat mesec è giuli Lottavo mese è agosto Osmiat mesec è august Il nono mese è settembre Devetiat mesec è settembre Il decimo mese è ottobre Desetiat mesec è ottobri Desetiat mesec è ottobri Lundicesimo mese è novembre Edinaissetiat mesec è noembre Il dodicesimo mese è dicembre Dvanaisetiat mesec è dicembre Dvanaiset mesec è dicembre Un anno a dodici mezzi Dvanaiset meseca sa edna godina Lullio, agosto, settembre Juli, avgust, settembre Juli, avgust, settembre Ottobre, novembre e dicembre Octobri, novembre e dicembre Octobri, novembre e dicembre Sessanta due Fare domande Zadavane na vaprosi Zadavane na vaprosi Imparare, studiare Ucha Gli ali evi studiano molto? Ucinicite ucet li mnogo? No, studiano poco Ne, te ucet malo Ne, te ucet malo Chiedere Pitam Chiede spesso all'insegnante? Često li pitate ucitella? Često li pitate ucitella? No, non gli chiedo spesso Ne, as ne go pitam Ne, as ne go pitam As odgovariam Lavorare Rabotia Lui sta lavorando? Toj roboti li sega? Toj roboti li sega? Si, sta lavorando Da, toj roboti sega Da, toj roboti sega Venire Idvam Idvam Viene Idvate li? Idvate li? Si, vengo subito Da, vednaga idvame Da, vednaga idvame Abitare Živeia 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 Abita a Berlino V Berlin li živeete? Vov Berlin li živeete? Si, abito a Berlino Da, as živeia v Berlin Da, as živeia V Berlin Book 2 63 63 63 63 63 Faridomande Due Zadavane Na vaprosi 2 Zadavane Na vaprosi 2 O, un obi As imam Hobby As imam Hobby Djokoa Tenis As Igraja Tenis As Igraja Tenis Dovei Campoda Tenis Kde Kde ima igrište za tenis? Kde ima igrište za tenis? Ajo nobi Ti Ti imaš li Ti imaš li hobi? Ti imaš li hobi? Djokoa Calcio As Igraja Futbol Ajo Ajo Futbol Dove je il campo da calcio? Kde ima futbolno igrište? Kde ima futbolno igrište? Mi fa male il bračo? Rakata me boli Rakata me boli Mi fa no male anche il piede e la mano Kde Kde ima lakar? Kde ima lakar? Kde ima parkinj? Kde ima parkinj? Kde ima parkinj? Ho un malione Azo imam pulover Azo imam pulover Io ho anche una jaka e un paio di jeans Imam също jake i dnki Dove trovo una lavatrice? Kde ima peravnja? Io ho un piatto As imam cinija Io ho un coltello, una forchetta e un cucchiaio Imam nož, vilica i lažica Imam nož, vilica i lažica Dove sono sale e pepe? Kde ima sol e cheren pepe? Kde ima sol e cheren pepe? Book 2 Sessantaquattro Sessantaquattro Sesset i cetiri Sesset i cetiri Negazione Uno Otrizzanie Otrizzanie Uno Non capisco questa parola As ne razbiram As ne razbiram Dumata Non capisco la frase Il significato Non capisco il significato As ne razbiram Značenje Linsenjante Linsenjante Ucitel Ucitel Capisce linsenjante? Capisce linsenjante? Razbirate li ucitele? Razbirate li ucitela? Si, lo capisco bene L'insegnante Capisce l'insegnante? Sì La capisco bene Da, azi ja razbiram dobre Da, azi ja razbiram dobre L'agente Hora Capisce l'agente? Razbirate li horata? No, non la capisco molto bene L'amica La ragazza Prijatelka Prijatelka Ha una mica? Ha una ragazza? Imate li prijatelka? Imate li prijatelka? Si, c'elo Da, imam Da, imam La figlia Dèšteria Dèšteria A una figlia? Imate li dèšteria? Imate li dèšteria? No, non neo Ne, niamam Ne, niamam Book two Sessantacinque Sessantacinque Sesset I pet Sesset I pet Negazione Due Otrizzanie Due Otrizzanie Due E caro Lanello Scup li è Prastennat? Scup li è Prastennat? No Costa solo Cento euro Ne Toi struva Samo Sto Evro Ne Toi struva Samo Sto Evro Ma io ne ho Solo cinquanta No Azi Imam Samo Peset No Azi Imam Samo Peset Sei pronto Gotov Li si Vecie? Gotova Li si Vecie? No Non Ancora Ne Oste Ne Sono Pronto Fra Un Momento No Ej Sega Sèm Gotov No Ej Sega Sèm Gotova Vorresti Ancora Della Minestra Isca Li Oste Supa? Isca Li Oste Supa? No Non Ne Voglio Più Ne Ne Iscam Povetje Ne Ne Iscam Povetje Ma Ancora Un Gelato No Iscam Oste Edin Sludolet No Iscam Oste Edin Sludolet Abiti Qui Da Tanto Tempo? Oddavna Li N Oddavna Li žive Eš Tuk? No Solo Daun Mese Ne Edva Od Edin Mesec Ma Ma No 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 Vecie Poznavam Mnogo Hora No Vecie Poznavam Mnogo Hora Vaia Kaza Domani Mnogo Mnogo Poznavam Mnogo Oste Oste Nedelia Šte Se Vrna No Oste V Nedelia Šte Se Vrna Tua Filia E Dja Adulta Dășteria Ti Golama Li E Vecie Dășteria Ti Golama Li E Vecie No A Pena Di Căsat Te Anni Ne Tia E Edva Na Sedemnaiset Ne Tia E Edva Na Sedemnaiset Ma Lei Adja Un Amico No Vece Ima Prijatel No Vece Ima Prijatel B O O K 2 Punto Die Per Il Libro E Per I Testi Book 2 66 67 I 6 67 I 6 Pronomi Possessivi 1 Pritegiate Unii Mesto Imenia 1 Pritežatelni Mesto Imenia 1 Io Il Mio La Mia As Moi Svoj Si As Moi Svoj Si Non trovo La Mia Chave Ne Moga Da Nameria Moja Cluč As Nemoga Da Nameria Moja Cluč Non trovo Il Mio Biglietto Ne Moga Nameria Moja Bilet Ne Moga Da Nameria Moja Bilet Tu Tu Tuo La Tua Ti Tvoj Svoj Si Hai trovato la tua chiave? Hai trovato il tuo biljetto? Hai trovato il tuo biljetto? Lui il suo la sua. Toi, n'egov mu. Sai dove la sua chiave? Znaèš li kede è n'egoviat ключ? Sai dove il suo biljetto? Znaèš li kede è n'egoviat bilet? Lei il suo la sua. Tja, nejen i. Il suo denaro è sparito. Nejenite pari gi n'ama. Nejenite pari gi n'ama. E anche la sua carta di credito non c'è più. Nejenita kreditna carta di credito non c'è più n'ama. Noi il nostro. Nije, naš, ni. Nije, naš, ni. Il nostro nonno è malato. Nasiat diano è bolen. Nasiat diano è bolen. Voi il vostro. Vi è, vaš, vi. Vi è, vaš, vi. Bambini, dov'è il vostro papa? Bambini, dov'è la vostra mamma? Dica, dove è la vostra mamma? Dica, dove è la vostra mamma? Book 2 67 67 Pronomi possessivi, due. Priteggiatevni mestoimenia, due. L'io kiali. Occiua Lui ha dimenticato i svoi occiali. Toi zabravi svoite occiua. Toi zabravi svoite occiua. Ma dove sono i svoi occiali? Kade li sa n'egovite occiua? Kade sa n'egovite occiua? L'orologio. L'orologio. Che sovnik. Che sovnik. Il suo orologio è rotto. Negoviet chesovnik è poveden. Negoviet chesovnik è poveden. L'orologio è appeso alla parete. Chasovnicat visi na stenata. Il passaporto. Pasport. Lui ha perso il suo passaporto. Toi zagubi svoja passaport. Ma dove il suo passaporto? Cade li è n'egoviet passaport? L'oro il loro. Te, tehen. Svoj, si. Te, tehen. Svoj, si. I bambini non riescono a trovare il loro genitori. Decata ne mogat da nameriat swoite roditeli. Ma è coli che vengono. No, ei tam, tehnite roditeli idvat. No, ei tam, tehnite roditeli idvat. Lei, il suo. Com'è stato il suo viaggio, signor Müller? Com'è stato il tuo passaporto, signor Müller? Com'è stato il 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 passaporto, signor Müller? Grazie a tutti, signora Schmidt. Grazie a tutti, signora Schmidt. Il topo è piccolo. Mischkata è malca. Scuro e chiaro. Tum'en e sveto. Tum'en e sveto. La notte è scura. Noc'è è tum'na. Il giorno è chiaro. Il giorno è sveto. Nostro nonno è molto anziano. Nasiat diano è molto star. Nasiat diano è molto star. La farfalla è bella. Il giorno è brutto. La farfalla è grosso e magro. Una donna di cento chili è grassa. Un uomo di cinquanta chili è magro. Mischi su steglo 50 kg è slab. Mischi su steglo 50 kg è slab. Caro e non caro. Costoso e non costoso. Scup e eftin. La macchina è cara. La macchina è costosa. Il giornale non è caro. Il giornale non è costoso. Vestnicat è eftin. Vestnicat è eftin. Aver bisogno. Volere. Tràbvami. Imam нужda. Iscam. Ho bisogno di un letto. Ho bisogno di una lampada. Ho bisogno di un telefono. e Ho bisogno di un telefono. ho bisogno di una macchina fotografica voglio fotografare c'è una macchina fotografica qui? c'è una macchina fotografica qui? c'è una macchina fotografica qui? ho bisogno di un computer voglio mandare un e-mail c'è un computer qui? c'è una macchina fotografica qui? ho bisogno di una penna c'è una macchina fotografica c'è una macchina fotografica qui? c'è una macchina fotografica qui? NATURE ci sono un foglio di carta e una penna qui? c'è una macchina fotografica qui? c'è una macchina fotografica qui? c'è una macchina fotografica qui? 70 Aver voglia di qualcosa GELAJA Bih želal Iscam Bih iskal nello GELAJA Bih želal Iscam Bih iskal nello LEVA DI FUMARE Iscate li da pušite? Iscate li da pušete? LEVA DI BALARE Iscate li da tancuvate? Iscate li da tancuvate? LEVA DI FARE UNA PASEDJATA Iscate li da se razhodite? Iscate li da se razhodete? VORREI FUMARE Iscam da puša Iscam da puša VUOI UNA SIGARETTA? Iscate li cigara? Iscate li cigara? LUI VORREBE ACENDERE UNA SIGARETTA Toj iska oganče Toj iska oganče VORREI bere qualkosa Iscam da pia nešto Iscam da pia nešto VORREI manđare qualkosa Iscam da jam nešto Iscam da jam nešto VORREI RIPOZARMI UN PO Iscam da si oddahna malko Iscam da si oddahna malko VORREI Ofrirle qualkosa Bih iscala da vi pokanja Na nešto Bih iscala da vi pokanja Na nešto Desidera prego Kakvo običate Molja? Kakvo želajete Molja? Kakvo običate Želajete Molja? Gradiše UN CAFE Želajete li CAFE? Želajete li CAFE? O preferiše UN TE Ili predpočitate ČAJ? Ili predpočitate ČAJ? VORREI MO ANDARE A CASA? Nije Iscame Da se Priberem V KČŠČI? Nije Iscame Da se Priberem V KČŠČI? VORREI STE UN TASI? Želajete LI TAKSI? Želajete LI TAKSI? LORO VORREBERO TELEFONARE TE ISCAT DA SE OBADĪT PO TELEFONA TE ISCAT DA SE OBADĪT PO TELEFONA 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 SEDEMDESET IEDNO VOLER QUALCOZA? ISCAM ŻELAE NEŠTO ISCAM ŻELAE NEŠTO Che cosa volete? Che cosa volete? Volete giocare a pallone? Iscate li da igraete in fútbol? Volete andare a trovare degli amici? Iscate li da posetite priatelite si? Volere Iscam Non voglio arrivare in retardo Non voglio andare a casa Iscam da si oti da u doma? Iscam da si oti da u doma? Volio restare a casa Iscam da ostana u doma? Iscam da ostana u doma? Volio essere solo Volio stare da solo Iscam da sem Iscam da sem sama Volio restare qui Iscaš li da ostaneš tuk? Iscaš li da ostaneš tuk? Volio mangiare qui Iscaš li da se hraniš tuk? Iscaš li da se hraniš tuk? Volio dormire qui Iscam da ostaneš tuk? Iscam da ostaneš tuk? Volio partire domani Utre li iscate da zaminete? Utre li iscate da zaminete? Volio restare fino domani Do utre li iscate da ostaneš tuk? Do utre li iscate da ostaneš tuk? Volio pagare il conto solo domani? Utre li iscate da platite smetkata? Utre li iscate da platite smetkata? Volio tendare in discoteka? Na diskoteka li iscate da ostaneš tuk? Do diskoteka li iscate da ostaneš tuk? Volio tendare al cinema Na kino li iscate da ostaneš tuk? Na kino li iscate da ostaneš tuk? Volio tendare al bar? V kino li iscate da ostaneš tuk? V kino li iscate da ostaneš tuk? V kino li iscate da ostaneš tuk? 72 Dover fare qualcosa Trabba da napravia nello Dover Trabba Devo spedire la lettera Trabba da ispratia pismo Trabba da ispratia pismo Devo pagare l'albergo Trabba da platia hotela Devi alzarti presto Trabba da staneš rano Devi lavorare molto Trabba da работiš mnogo Devi essere puntuale Trabba da si točen Lui deve fare benzina Toi trebba da zaredi colata Lui deve aggiustare la macchina Toi trebba da popravi colata Lui deve lavare la macchina Toi trebba da izmije colata Lui deve fare la spesa Tia trebba da pazeruva Lui deve pulire la casa Lui deve pulire la casa Tia trebba da izmije colata Tia trebba da izmije colata Tia trebba da izmije colata Dobiamo andare subito a scuola Dobbiamo andare subito al lavoro Tia trebba da trebbame vednaga Tia trebba da trebbame vednaga Tia trebba da izmije col mmm Tia trebba da izmije colata Vie trebva da chacate avtobus. Vie trebva da chacate vuaca. Vie trebva da chacate taksito. Vie trebva da chacate taksito. 73 73 Potere Moga, razrešeno mi je, biva. Puoi ja guidare? Možeš li veče da karas koa? Možeš li veče da karas koa? Puoi ja bere alkol? Možeš li veče da piiesz alkohol? Možeš li veče da piiesz alkohol? Puoi ja dare al estero da solo? Možeš li veče da põtuvash sam v čužbina? Možeš li veče da põtuvash sama v čužbina? Potere Esere permesso Moga Razrešeno mi je, biva. Moga Razrešeno mi je, biva. Possiamo fumare qui? Može li da pushim tuk? Može li da pushim tuk? Si puoi pagare con la carta di credito? Može li da se pulašta s kreditna karta? Si puoi pagare con una senio? Može li da se pulašta s kreditna karta? Može li da se pulašta s kreditna karta? Si puoi pagare solo in contanti? Može li da se pulašta samo v broi? Može li da se pulašta samo v broi? Posso telefonare un momento? Može li da se pulašta s kreditna karta? Može li da se pulašta s kreditna karta? Može li da popitam nešto? Može li da popitam nešto? Posso dire kvalkosa? Može li da se pulašta s kreditna karta? Može li da se pulašta s kreditna karta? Non po darmire alparco? Toy ne može da se pulašta s kreditna karta? Toy ne može da se pulašta s kreditna karta? Non po durmiro in stacione? Toy ne može da se pulašta s k debts jakatra? Može li da se pulašta s kreditna karta? Može li da se pulašta s kreditna karta? Može li da se pulašta s kreditna? Posiamo pagare separatamente? 74 74 Chiedere qualcosa? Molia za nello Mi può taliare i capelli? Non troppo corti, per favore Non troppo corti, per favore Non troppo corti, per favore Un po più corti, per favore Po sviluppare le foto? Može li da proiavite снимcite? Može li da proiavite снимcite? Le foto sono nel cd Le foto sono nella macchina fotografica Po aggiustare l'orologio? Il vetro è rotto Stacuoto è scupeno La batteria è scarica Bateria è istoccena Bateria è istoccena Può stirrare la camicia? Može li da izgladite risata? Può pulire i pantaloni? 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 A dei fiammiferi o un acendino? Imate li kibrit ili zapalca? A un portacenere? Imate li pepelnik? Imate li pepelnik? Fuma sigari? Puscite li puri? Fuma sigarette? Puscite li cigari? Fuma la pipa? Puscite li uova? Puscite li uova? Buk 2 75 70 i pet 70 i pet Giustificare qualcosa Uno Argumentiram nešto Edno Argumentiram nešto Edno Perchè non viene? Zašto niamah da dojdete? Zašto niamah da dojdete? Il tempo è così brutto Vremeto è lošo Vremeto è lošo Non vengo perché il tempo è così brutto Perchè non viene? Non viene perchè non è invitato Non è invitato Toi ne è pokanen Non viene perché non è invitato Toi niamah da dojde Perchè non viene? Zašto niamah da dojdeš? Zašto niamah da dojdeš? Nono tempo Az niamam vreme Non vengo perché non ho tempo Az niamah da dojde Zašto niamah vreme Az niamah da dojde Zašto niamah vreme Perchè non resti? Zašto ne ostaneš? Devo ancora lavorare Az trebava da lavorare Az trebava da lavorare oșche Non resti perché devo lavorare ancora Az niamah da dojdeš? Az niamah da dojdeš? Az niamah da dojdeš? Zašto trebava da lavorare oșche Perchè già se ne va? Zašto si trăgvate vece? Zašto si trăgvate vece? Sono stanco Az sem umoren Az sem umorena Me ne vado perché sono stanco Az si trăgvam, защoto sem umoren Az si trăgvam, защoto sem umoren Umorena Perchè partedja? Zašto zaminavate vece? Zašto zaminavate vece? E jatardi Vece e kăsno Vece e kăsno Parto perché è già tardi Zaminavam Zaminavam защoto vece e kăsno Zaminavam Zaminavam защoto vece e kăsno Visita il sito www.book2.de www.book2.de Per il libro e per i testi Book 2 76 76 76 Giustificare qualcosa 2 Argumentiram neșto 2 Argumentiram neșto 2 Perché non sei venuto? E защo ne doide? Ti Ero malato Ero malato Az biaz bolen Az biaz bolna Non sono venuto perché ero malato Az ne doideh защo biaz bolen Az ne doideh защo biaz bolen bolna Perché lei non e venuta? Perché non è venuto? Perché non è venuto? Non ne aveva voglia. Non è venuto perché non ne aveva voglia. Perché non siete venuti? Perché non è venuto? La nostra macchina è rotta. Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta. Nие ne doidochme perché collata è povredata. Perché non sono venuti? Perché non sono venuti? Perché non sono venuti? Anno perso il treno. Te ispusnaha vlaka. Te ispusnaha vlaka. Non sono venuti perché hanno perso il treno. Te ne doidocham perché ispusnaha vlaka. Te ne doidocham perché ispusnavano vlaka. Perché non sei venuto? Perché non sei venuto? Perché non sono venuto perché non potessi? Non potessi. Non potessi. Non potessi. Non sono venuto perché non potessi. Non potessi. Perché non potessi. Non potessi. S различdi. Sух. S七 e sattita. Perchè non mangia la torta? Perchè non mangia la torta? Devo dimagrire. Devo dimagrire. Devo dimagrire. Devo dimagrire. Devo dimagrire. Non la mangio perché devo dimagrire. Perchè non beve la birra? Perchè non beve la birra? Devo guidare. Perchè non beve il caffè? Perchè non beve il caffè? Non lo bevo perchè è freddo. Non lo bevo perchè è freddo. Perché non bevile te? Perché non bevile quando ne bevile? Non lo zucchero. Non lo bevo perchè non ho zucchero. Perché non mangia la minestra? Perché non mangia la minestra? Non lo ordinata. Non lo mando perchè non lo ordinata. Perché non mangia la carne? Perché non mangia la carne? Perché non mangia la carne? Sono vegetariano. Vegetarianец съm. Vegetarianец съm. Non la mangio perchè sono vegetariano. Non lo mangia la carne perché sono vegetariano. Non lo mangia la carne perché sono vegetariano. Book 2 78 Adgettivi 1 Unadonna Anciana Unadonna Grasa Unadonna Curiosa Ljubopitna žena Una macchina nova Nova kova Una macchina veloce Bërza kova Una macchina komoda Udobna kova Udobna kova Un vestito azzurro Signa roclia Signa roclia Un vestito rosso Cervena roclia Cervenia roclia Un vestito verde Zelena roclia Zelena roclia Una borsa nera Cerna canta Cerna canta Una borsa marrone Caffiava canta Caffiava canta Una borsa bianca Piaua canta Piaua canta Gente carina Persone carine Prijatni hora Prijatni hora Gente gentile Gente gentile Persone gentili Uctivi hora Uctivi hora Gente interessante Persone interessanti Interesni hora Interesni hora Bambini cari Mili deca Mili deca Bambini impertinenti Nahalni deca Nahalni deca Bambini bravi Poslušni deca Poslušni deca Book 2 79 79 79 79 Adjetivi 2 2 2 2 2 Indosso un abito azzurro Oblечena съm в синя рокля Oblечена съм в синя рокля Indosso un abito rosso Oblечена съм в червена рокля Indosso un abito verde Oblечена съм в зелена рокля Compro una borsa nera Compro una borsa bianca Compro una borsa bianca Ase kupujem bianca Ase kupujem bianca Ase kupujem bianca Ase kupujem bianca Oblечena Oblечena Oblucheno di una mackina nova Imam nuzda Od nova Cola Imam nuzda Od nova Cola Oblucheno di una mackina Io ho bisogno di una macchina comoda. Io ho bisogno di una macchina comoda. Una donna anciana. La giu habita una donna curiosa. Dolo живее edna lubopitna jena. E nostri ospiti erano carini. E nostri ospiti erano interessanti. O dei cari bambini. Ma i vicini erano dei bambini impertinenti. E nostri ospiti erano interessanti. 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 Pruagatevni tri. Pruagatevni tri. Lei ha un cane. Il cane è grande. Lei ha un cane grande. La casa è piccola. La casa è piccola. Lei ha una casa piccola. Lui ha abita in un albergo. L'albergo è a buon mercato. Lui ha abita in un albergo economico. Lui ha una macchina. Lui ha una macchina costosa. Lui ha una macchina costosa. Lui ha un romanzo. Lui c'è un romanzo. Lui c'è un romanzo. Il romanzo è noioso. Lui legge un romanzo noioso. Lei guarda un film. Il film è avvincente. Film è avvincente. Lei guarda un film avvincente. Tia guarda avvincente film. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 81 81 81 Passato 1 Minalo vreme, edno. Minalo vreme, edno. Skrivere Pisha Lui ha scritto una lettera. Toi napisa pismo. Toi napisa pismo. E lei ha scritto una cartolina. A tia napisvaše kartica. A tia napisvaše kartica. Leggere Leggere Ceta Ceta Lui ha letto una rivista. A tia Baby Cajero Deve E lei ha letto un libro? A tja cetece kniiga. Prendere. Vzemam. Lui ha preso una sigaretta. Toj vze cigara. Toj vze cigara. Lei ha preso un pezzo di cioccolato. Tja vze per ce cioccolat. Lui era infedele, ma lei era fedele. Toj ne bese predan, no tja bese predana. Toj ne bese predan, no tja bese predana. Lui era pigro, ma lei era activa. Toj bese mrzeliv, no tja bese staratelna. Lui era povero, ma lei era rica. Toj bese predan, no tja bese predana. Toj bese predan, no tja bese predana. Lui non aveva soldi, ma debiti. Toj namaše pari, a dõlgove. Toj namaše pari, a dõlgove. Lui non aveva fortuna, ma s fortuna. Toj namaše kõsmet, a samo ne spoluka. Lui non aveva sučeso, ma insučeso. Toj namaše uspeh, a ne uspeh. Lui non era contento, ma scontento. Toj ne bese dovolen, a nedovolen. Toj ne bese dovolen, a nedovolen. Lui non era felice, ma infelice. Toj ne bese štastliv, a neštasten. Toj ne bese štastliv, a neštastliv. Lui non era simpatico, ma antipatico. Toj ne bese simpaticen, a ne simpaticen. Toj ne bese simpaticen, a ne simpaticen. Book 2 82 82 82 82 82 Passato 2 Minalo vreme 2 Minalo vreme 2 Hai dovuto chiamare l'ambulanza? Träbvaše li da vikaš linijka? Träbvaše li da vikaš linijka? Hai dovuto chiamare il medico? Träbvaše li da vikaš lekarja? Träbvaše li da vikaš lekar? Träbvaše li da vikaš poličiata? Träbvaše li da vikaš poličiata? A il numero di telefono? Un momento fa ce lavevo. Imate li telefonnia nomer? Tukmo go vzeh. A l'indirizzo? Un momento fa ce lavevo. Imate li adresa? Tukmo go vzeh. Imate li adresa? Tukmo go vzeh. Toj ne moža da dojde na vreme. Toj na vreme li dojde? Toj ne moža da dojde na vreme. A trovato la strada? Ha trovato la strada? Non riusiva a trovare la strada. Toj na meri li pëtja? Toj ne moža da nameri pëtja. Toj na meri li pëtja? Toj ne moža da nameri pëtja. Ti capiva? Non riusiva a capirmi. Toj razbralite? Toj ne moža da me razbere. Toj razbralite? Toj ne moža da me razbere. Toj ne moža da dojde na vreme. Toj ne moža da nameriš pëtja? Toj ne moža da nameriš pëtja. Perchè non riuscivi a capirlo? Zašto ne moža da go razbereš? Non sono riuscito ad arrivare puntualmente perchè l'autobus non veniva. Ne možach da dojde na vreme zašto ne moža da dojde na vreme zašto ne moža da namaše avtobus. Non sono riuscito a trovare la strada perchè non avevo la pianta della città. Ne možach da nameriš pëtja zašto ne moža da nameriš pëtja zašto ne moža da nameriš pëtja zašto muzikata bëshe mnogo silna. Ne možach da go razbera zašto muzikata bëshe mnogo silna. Ho dovuto prendere un tassi. Trebvaše da vzema taxi. Ho dovuto comprare una pianta della città. Trebvaše da kupia karta na grada. Trebvaše da kupia karta na grada. Ho dovuto spegnere la radio. Trebvaše da izključa radio to. Trebvaše da izključa radio to. Book 2 83 83 Pasato 3 Minalo vreme 3 Minalo vreme 3 Telefonare Zvânja Obaždam se po telefona. Zvânja Obaždam se po telefon. Od telefonato. Az zvânjah po telefona. Az zvânjah po telefona. Od telefonato per tuto el tempo. Govorih po telefona pres ciałoto vreme. Govorih po telefona pres ciałoto vreme. Chiedere Pitam 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 Ho chiesto Az pitah Az pitah Ho sempre chiesto Az postojanno pitah Az postojanno pitah Raccontare Raccontare Rascazvam 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 100% Studiare Rascazvam Rascaztwam ho studiato tutta la sera ho studiato tutta la sera lavorare ho lavorato ho lavorato tutto il giorno mangiare ho mangiato ho mangiato tutta ho studiato tutta la sera ho studiato tutta la sera ho studiato tutta la sera osemdeset i cetiri osemdeset i cetiri passato quattro minalo vreme minalo vreme cetiri leggere leggere ceta ho letto as ho letto tutto il romanzo as 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 progetto as 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 Lo compro, lo comprato. Me lo aspetto, me lo aspetavo. Lo spiego, lo spiegato. Non mi è nuovo. Lo so. Lo sapevo. Lo so. 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 Lo Con chi ha preso appuntamento? Con chi ha festeggiato il compleanno? Dove ha abitato? Dove ha lavorato? C'è cosa ha consigliato? C'è cosa ha mangiato? C'è cosa ha mangiato? C'è cosa è venuto a sapere? C'è cosa ha mangiato? A che velocità è andato? C'è quanto è durato il volo? C'è quanto è durato? Fino a che altezza è saltato? Colco visoco scoccihte? Colco visoco scoccihte? www.book2.de 86 Vaprosi Minalo vreme Di capto Che uno ha compratuto? Ti za kakav vestnik se abonira? Chi ha visto? Cogo vidi? Chi ha incontrato? Cogo srechnahte? Cogo srechnahte? Chi ha riconosciuto? Cogo razpoznahte? Quando si je alzato? Coga stanahte? Quando ha cominciato? Coga zapocnahte? Coga zapocnahte? Quando ha finito? Coga svršihte? Coga svršihte? Perché si je zvegljato? Zašto se sabudihte? Zašto se sabudihte? Perché si je diventato insegnante? Zašto stanahte učitel? Zašto stanahte učitel? Perché ha preso unta si? Zašto se sabudihte taksi? Zašto se sabudihte taksi? Da dove veno to? Odkade dojdohte? Odkade dojdohte? Dove andato? Kade otidohte? Kade otidohte? Dove stato? Kade biahte? Kade biahte? Ki hai aiutato? Ti na kogo pomogna? Ti na kogo pomogna? A ki hai skripto? Ti na kogo pisa? Ti na kogo pisa? A ki hai risposto? Ti na kogo odgovori? Ti na kogo odgovori? Book two! Osemdeset i sedem Osemdeset i sedem Pasato Verbi modali uno Minalo vreme na modalnite glagoli Edno Minalo vreme na modalnite glagoli Edno Abiamo dovuto i na fiare i fiori Nije trebbaše da poleem cvetiata Abiamo dovuto metere in ordine l'apartamento Nije trebbaše da raztrebim Nije trebbaše da raztrebim žileșteto Abiamo dovuto lavare i piatti Nije trebbaše da izmiem sadovete Nije trebbaše da izmiem sadovete Avete dovuto pagare il conto? Träbbaše li da platite smetkata? Träbbaše li da platite smetkata? Avete dovuto pagare il ingresso? Träbbaše li da platite вход? Träbbaše li da platite вход? Avete dovuto pagare una multa? Träbbaše li da platite guoba? Da chi ha dovuto a comiatarsi? Koi trebbaše da se zboguva? Chi ha dovuto andare a casa presto? Koi trebbaše da si trgne rano za v kâști? Koi trebbaše da se trgne rano za v kâști? Chi ha dovuto prendere il treno? Koi trebbaše da взeme vlaka? Koi trebbaše da взeme vlaka? Non volevamo restare a lungo Nije ne iskahme da ostanem dolgo Non volevamo bere niente Nije ne iskahme da pijem ništo Non volevamo disturbare Nije ne iskahme da prečim Nije ne iskahme da prečim Volevo solo telefonare Takmo iskah da se obadja po telefona Takmo iskah da se obadja po telefon Volevo chiamare um ta si Ase iskah da porčam taksi Ase iskah da porčvam taksi Infatti volevo andare a casa Ase vsešnost iskah da si otida v kâști Pensavo ke tu vole si telefonare a tua molje Ase si misleh, če iskaš da se obadiš na žena si Pensavo ke tu vole si chiamare le informacioni Ase si misleh, če iskaš da se obadiš na informacija Pensavo ke tu vole si ordinare una pizza Ase si misleh, če iskaš da porčaš pizza Ase si mislih, če iskaš da porčam pizza Book two Ottantotto Osemdeset i osem Osemdeset i osem Passato Verbi modali Minalo vreme na modalnite guagoli Dve Minalo vreme na modalnite guagoli Dve Mio figlio non voleva giocare con la bambola Mio figlio ne iskaše da se igrae s kuklata Mio figlio non voleva giocare a pallone Mojata žena ne iskaše da igrae s kuklata Mojata žena ne iskaše da igrae s men na šah Mojata žena ne iskaše da igrae s kuklata Mojata žena ne iskaše da igrae s men na šah I miei figli non volevano fare una passeđata Mojite deca ne iskaha da se razhoždat Mojite deca ne iskaha da se razhoždat Non voleva no riordinare la camera Te ne iskaha da raztrebiat stajata Non voleva no andare a letto Te ne iskaha da si lagat Te ne iskaha da si legnat Lui non poteva mangiare il gelato Toj ne bivaše da jede s kuklata Lui non poteva mangiare il ciokkolato Toj ne bivaše da jede s kuklata Lui non poteva mangiare le karamelle Toj ne bivaše da jede bonboni Toj ne bivaše da jede bonboni Ho potuto esprimere un desiderio Možih da si poželaja nešto Možih da si poželaja nešto Ho potuto comprarmi un vestito Možih da si kupia roklia Možih da si kupia roklia Ho potuto prendere un čokolatino Možih da si vzema bonbon Možih da si vzema bonbon Možesh li da pushish v samoleta Možesh li da pushish v samoleta Možesh li da pushish v samoleta Možesh li da pijesh bira v bolnicata Možesh li da pijesh bira v bolnicata Možesh li da pijesh bira v bolnicata Možesh li da vzemesh kuceto v hotela Možesh li da vzemesh kuceto v hotela Durante le vacanze i bambini Potevano restare a lungo fuori Pres vakancijata Decata možih da ostavat Dlugo navn Loro potevano giokare a lungo Nel cortile Te možeh dlugo da igrajat na dvora Loro potevano restare s velji fino atardi Te možeh dlugo da ne se prebirat Te možeh dlugo da ne se prebirat Book 2 Ottan da nove Osemdeset i devet Osemdeset i devet Imperativo uno Powelitelno naklonenie Edno Powelitelno naklonenie Edno Tu sei kuzi pigro No ne seri kuzi pigro Ti si tolkova mrzeliv Ne badi tolkova mrzeliv Ti si tolkova mrzeliv Ne badi tolkova mrzeliv Tu dormi tanto Non dormire tanto Ti spiš do tolkova mrzeliv Ti spiš do tolkova mrzeliv Ti spiš do tolkova mrzeliv Ne spi do tolkova mrzel Tu a rivi kuzi tardi Non arrivare kuzi tardi Ti idvash tolkova kuzno Ne idvaj tolkova kuzno Ti idvash tolkova kuzno Ne idvaj tolkova kuzno Tu ridi kuzi forte Non ridere kuzi forte Ti se smieš tolkova kuzno Ti se smieš tolkova kuzno Tu parli kuzia basa voce Non parlare kuzia basa voce Ti говорiš tolkova ticho Ne говорi tolkova kuzno Ti говорiš tolkova kuzno Ne говорi tolkova kuzno Tu be vitropo Non beretanto Ti piš tvrde mnogo Ne pii tolkova mnogo Ti piš tvrde mnogo Ne pii tolkova mnogo Tu fumitropo Non fumare kuzno Ti piš tvrde mnogo Ne puši tolkova mnogo Ne puši tolkova mnogo Tu lavori troppo Non lavorare kuzno Ti piš tvrde mnogo Ne puši tvrde mnogo Ti kareš tolkova bõrzo Ne karei tolkova bõrzo Si alzi signor Müller Stanete, gospodin Müller Stanete, gospodin Müller Si accomodi, signor Müller Sednete, gospodin Müller Resti seduto, signor Müller Ostanete na miastoto si, gospodin Müller Abia pacienta Imajte tõrpenie Fača con komodo Ne bõrzajte Ne bõrzajte Aspeti un momento Pocakajte един moment Pocakajte един moment Fača Atenzione Bõdete Vnimatelni Bõdete Vnimatelni Sia puntuale Bõdete Tocni Bõdete Tocni Non sia stupido Ne bõdete Glupavi Ne bõdete Glupavi Book two Book two Nine thành Nin 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 ан avs homon dũ Fatti la barba Lava ti Petina ti Srechi se Telefona mi Mi telefoni Pozvani po telefona Pozvanete po telefona Pozvani po telefona Pozvanete po telefona Comincha Cominchi Zapocni Zapocnete Zmetila La zmeta Prestani Prestanete Prestani Prestanete Lascia stare Lasci stare Ostavi tova Ostavete tova Ostavi tova Ostavete tova Di questo Dica questo Caggi tova Caggi tova Cagite tova Caggi tova Cagite tova Cagite tova Compra questo Compri questo Non essere mai disonesto. Non essere mai impertinente. Non essere mai scortese. Non essere mai disonesto. Sì sempre sincero. Sì sempre carino. Sì sempre gentile. Buon ritorno a casa. Da se preverete blagopolucco in casa. Abia cura di se. Grizzate se per se. Ritornia trovareci presto. E' l'atteni pa che scoro a gosti. E' l'atteni pa che scoro a gosti. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi. Book 2 Novantuno Devedeset i edno Devedeset i edno Devedeset i edno Per i testi. 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 viene sicuramente è sicuro sicuramente sicuramente è sicuramente sicuramente veramente veramente naistina li credo che telefoni il vino è certamente in vecchiato vinoto sicuramente è staro lo sa di sicuro? lo sa di sicuro 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 è molto probabile che abbia una mica lo sa di sicuro 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 non so se mi telefona 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 chi sa se mi ama dali me obica dali me obica chi sa se ritorna dali šte se vrne dali šte se vrne chi sa se mi telefona dali šte mi se obadi po telefona dali šte mi se obadi na telefona mi kiedo se mi pensi pitam se dali toj misli za men mi kiedo se abia un altra pitam se dali toj ima druga pitam se dali toj ima druga mi kiedo se menta pitam se dali toj l'že pitam se dali toj l'že dali toj ima druga dali toj ima druga dali toj ima druga dali... tali ... che mi pique dubito che mi risposta dubito che mi risposta dubito che mi risposta dubito che mi risposta chissa se mi ha veramente dali na istina me Grazie a tutti. Book two. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché lui torna. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Quando vai in vacanza? Cosa? Cosa? Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Da. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Lava ti le mani prima di sederti a tavola. Aspetta finché ho finito. Aspetta finché ho finito. Cosa? 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 Dupo l'incidente non ha più potuto lavorare. Cosa? 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 Dopo esserandato in America è diventato ricco. Dopo esserandato in America è diventato ricco e diventato ricco e diventato ricco. Dopo esserandato in America è diventato ricco. Dopo esserandato in America è diventato ricco. Dopo esserandato in America è diventato ricco. Da quando si è sposata non lavora più. Da quando si conoscono sono felici. Da quando hanno bambini è scono raramente. Da quando si hanno bambini è scono. Da quando si hanno bambini è scono. Durante il viaggio. Po vreme na patuvaneto. Si, mentre guida. Da. Da. Do. 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 Till. Go. Do. From. Do. Do. r Bobo. Non vedo niente se la musica è così forte. Non sento odori quando oil raffreddore. Non vedo niente se la musica è così forte. Non vedo niente se la musica è così forte. Non vedo niente se la musica. Non vedo niente se la musica è così forte. Non vedo niente se la musica è così forte. Non vedo niente se la musica è così forte. Mi alzo appena suona la sveglia. Mi stanco appena inizio a studiare. Non vedo niente se la musica è così forte. Quando telefona? Cogà ще se obadite po telefona? Cogà ще se obadite po telefona? Appena ho un momento di tempo. Cogà è così forte. 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 Lui sta al bar invece di andare a casa. Lui sta al bar invece di andare a casa. Non mi sono sveglato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale. Lui sta al bar invece di andare a casa. Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale. Lui sta al bar invece di andare a casa. Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale. 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 Lui sta al bar invece di andare a casa. Lui sta al bar invece di andare a casa. Lui sta al bar invece di andare a casa. Lui sta al bar invece di andare a casa. Lui sta al bar invece di andare a casa. Lui sta al bar invece di andare a casa. Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora. Avevamo un appuntamento. Tuttavia non è venuto. Nia se biafme uggovorili. Vaprechi tava, to'y ne dòi dè. Se bene non abbia la patente, guida la macchina. Vaprechi, che n'amà schofiorsca knižka, to'y cara cola. Vaprechi, che n'amà schofiorsca knižka, to'y cara cola. Vaprechi, che pàt'at è chofiorsca, to'y cara bârzo. Se bene sia ubriaco, lui va in bicicletta. Vaprechi, che è pian, to'y cara veosiped. Vaprechi, che è pian, to'y cara veosiped. Non alla patente, tuttavia porta la macchina. Vaprechi, che n'amà schofiorsca knižka, vaprechi, to'y cara cola. La strada è gelata, tuttavia va forte. Vaprechi, che n'amà schofiorsca, to'y cara bârzo. Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta. Lui è pian, vaprechi, to'y cara veosiped. Lui è pian, vaprechi, to'y cara veosiped. Se bene sia laureata, non trova un posto. Lui è pian, vaprechi, che è pian, vaprechi, che è pian, vaprechi, che è pian, vaprechi. Se bene abbia dolori, non vada al medico. Lui è pian, vaprechi, che ha bologgi. Lui è pian, vaprechi, che è pian, vaprechi, che è pian, vaprechi, che è pian, vaprechi. Se bene non abbia soldi, compra una macchina. è laureata, ciò nonostante non trova lavoro. L'è ha dolori, ciò nonostante non va dal medico. L'è non ha soldi, ciò nonostante compra una macchina. L'è non ha soldi, ciò nonostante compra una macchina. L'è non ha soldi, ciò non ha soldi. Il viaggio è stato bello, ma faticoso. Il treno era in orario, ma affolatissimo. L'albergo era accoliente, ma troppo caro. Lui prende o l'autobus o il treno. Lui viene o stasera o domani mattina. L'è non ha soldi, ciò non ha soldi. Lui parla sia lo spagnolo che l'inglese. L'è non ha soldi, ciò non ha soldi. L'è non ha soldi, ciò non ha soldi. L'è non ha viscuto sia a Madrid che a Londra. Lui non è solo stupido, ma anche pigro. Lui non è solo carina, ma anche intelligente. Lei non parla solo tedesco, ma anche francese. Io non so suonare nè il pianoforte nè la chitarra. Non so ballare nè il valser nè la samba. Ase ne moga da tanzuvam nito vals nito samba. Non mi piace nè l'opera nè il balletto. Ase ne obiciam nito opera nito balletto. Ase ne obiciam nito opera nito balletto. Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci. Niente ore che si attraversi. Niente ore niente ore non è solo che si attraversi. Quanto prima vieni, tanto prima puoi andarte ne. Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa. Quanto più starci, più più удобi stai. 99 Genitivo Roditelen padeg La gatta della mia mica Kotkata na mojata priatelka Il cane del mio amico Kuceto na mojata priatel I giocattoli dei miei bambini Igračkite na mojite deca Questo è il cappotto del mio collega Tova è pautoto na moja collega Questa è la macchina della mia collega Tava è colata na mojata collega Questo è il lavoro dei miei colleghi Tava è il lavoro dei miei collega Il bottone della camisa si è staccato La chiave del garaje si è persa Il computer del titolare è guasto Compiuterat na šefa è povreden Chi sono i genitori della ragazza? Koi sa roditelite na momiceto? Koi sa roditelite na momiceto? Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori? Come si chiama la capitale della svizzera? Come si chiama noi bambini dei vicini? Come si chiama la capitale della mamica? Come se chiama la capitale della mia collega? Come si chiama la capitale della mia collega? Koi si chiama la capitale della mia collega? Quando sono le vacanciestive dei bambini? Kogata è la capitale della mia collega? Qual è l'orario di ambulatorio del medico? Qual è l'orario di apertura del museo? Qual è l'orario di lavoro di museo? Qual è l'orario di lavoro di museo? Book 2 Cento 100 A verbi? Nareccia Già una volta, non mai Vecce, oște ne È già stato a Berlino una volta? Bili li ste vece v Berlino? No, non ci sono mai stato Ne, oște ne Ne, oște ne Qualcuno, nessuno Niakoi Nikoi Niakoi Nikoi Conoce Conoce qualcuno qui? Poznavate li n'akogo tuk? Poznavate li n'akogo tuk? No, non conosco nessuno Ne, non conosco n'akogo tuk Ancora, non più Oște Nia, oște ne Nia, oște ne Nia, oște ne Nia, oște ne Resta ancora tanto qui Ne Nia, nia ma da ostana Dălgo tuk Ne, nia ma da ostana Dălgo tuk Ancora qualcosa Più niente No, non voglio Più niente Ne 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 Jeuaja Nișto Povece Ne Ne Jeuaja Nișto Povece Già qualcosa Ancora niente Vece Neșto Oște Nișto Vece Neșto Oște Nișto Ha mangiato Già qualcosa? Già Già Dohteli Vece Neșto Già Dohteli Vece Neșto No, non ho mangiato Ancora Niente Ne Oște Nișto Ne Săm Jal Ne Oște Nișto Ne Săm Jal Ancora Qualcuno Nisuno Oște Niakoi Nikoi Povece Oște Niakoi Nikoi Povece Qualcuno Vuole Ancora Un Café Že Vă Li Oște Niakoi Café Že Vă Li Oște Niakoi Café No Nessuno Ne Nikoi Ne Nikoi Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi